Allora ragazzi, come state oggi? Oggi secondo me sarà una serata veramente, veramente particolare, molto interessante Andiamo a leggere due racconti che questa volta invece ho già letto E ho scelto appositamente per voi Perché sono veramente due racconti che mi hanno sconvolto Mi hanno proprio... mi piacciono tantissimo Allora, andremo a leggere due racconti Intanto ve lo dico velocemente così non mi lasciate Tratti dalla nostra... le meraviglie del possibile, l'antologia della fantascienza Due racconti di Frederick Brown Questo signore qua, che vedete Un vero, un vero, vero visionario Nel vero senso della parola Come tanti probabilmente già sapranno in quell'epoca In tutto l'inizio del Novecento, poi fino a finire anche agli anni Sessanta, Settanta La fantascienza era completamente diversa da quella che noi intendiamo oggi Ma io personalmente non sono un grandissimo fan della fantascienza, appunto intesa come Spazio e Navicelle Saluto Claudia, ciao a tutti, tutto bene? Sono curiosa Ma vi dico che secondo me sarà una serata molto particolare e più originale Nonostante appunto io stesso non sia un fan della fantascienza Questi due racconti che ho letto di Frederick Brown, come altri Quest'antologia è veramente, veramente incredibile I due racconti che ho letto mi hanno veramente lasciato esterrefatto molto di più Di molti racconti considerati un po' più sul mio genere Nonostante appunto siano fantascienza Sono assolutamente, assolutamente in qualche modo geniali A mio parere E spero coglierete anche voi quello che ho colto io Secondo me ci saranno diverse cose che vi potranno lasciare molto stupiti e sorpresi Valeria ci sono, buonasera Allora intanto vi leggo velocemente cosa che c'è nel libro Una piccolissima biografia, eccolo qua, di Frederick Brown Che è un americano, è nato a Cincinnati in Ohio nel 1906 ed è morto nel 1972 Era una scrittore statunitense e giornalista famoso Ha alternato racconti e romanzi polizieschi a opere di fantascienza Nei suoi libri è spesso presente una vena umoristica e paradossale Quasi una presa di distanza dei canoni tradizionali del genere I suoi racconti migliori sono quelli brevissimi con il finale a sorpresa Un artificio che Brown divide con Mateson, Shackley, che abbiamo letto E risale a Poe Le sue storie di scontri tra un uomo e un alieno Sono state riprese dal serial televisivo Star Trek Addirittura In edizione italiana sono disponibili Progetto Giove, Vieni e Agisci Ve lo volevo dire io, è scritto anche qua dentro È diventato famoso oltretutto Perché le sue opere sono veramente visionarie E infatti è sempre inserito in tutte le antologie di fantascienza Tra i capostipiti del genere Che oltretutto vi ho già citato Tutti quelli che ci sono in questo libro Andate dopo Questo link qua che comparirà Cliccatelo E andate a rivedere il video in cui abbiamo letto due racconti già da questa antologia Uno era già di Frederick Brown ed era la Sentinella Un racconto incredibile di una pagina Neanche Una pagina E poi avevamo letto Shackley Che è stato appena citato dentro questa piccola biografia di Brown Andateli a vedere perché sono due racconti stupendi E quelli di oggi sono ancora più belli secondo me Vi ricordate la genialità della Sentinella? Di quella facciata assurda? Ecco, i due racconti di Brown che vi leggo oggi Stessa autora appunto della Sentinella Sono due racconti che, come vi ho già detto Scusate se sono ripetitivo Ma mi hanno veramente stupito Uno Molto breve Per la sua estrema ironia È veramente divertentissimo Veramente divertentissimo secondo me È la cosa più divertente del racconto in sé Oltre a come poi è presentato da Brown Ma è proprio l'idea della storia E il secondo racconto che vi leggerò È invece il racconto più lungo di questa sera Uno dei racconti più importanti di Brown Che io sappio forse probabilmente è il suo più importante Da cui quel racconto che in origine si chiama Arena E in italiano lo leggeremo con il titolo di Il Duello La Sentinella Pazzesco Esatto Il Duello è proprio il racconto che ha ispirato Una delle puntate poi di Star Trek Che è diventata tra le più famose E le più epocali Proprio per questa storia incredibile di Brown In questo duello Non vi voglio dire praticamente niente Ma in questo duello Non vi dico niente No, non vi dico niente Ho deciso di no perché Il Duello è veramente uno dei pochissimi racconti Che mi ha Ripeto, nonostante sia di fantascienza Non l'avrei mai detto Ma mi ha catapultato in quel mondo lì Vedevo esattamente tutto quello di cui parlava È spiegato secondo me in una maniera stupenda Ed è di un'originalità Veramente unica Unica Spero di trasmettere anche a voi queste cose Soprattutto che Brown riesca anche a voi A farvi vedere quello che ho visto io Perché Adesso andiamo a leggerli velocemente subito Senza stare troppo a parlarne Ma spero che vi diano le mie stesse sensazioni Perché, ripeto Nonostante siano di fantascienza Mi hanno veramente Sono entrati nel mio cuore Io direi, se voi siete d'accordo Di iniziare dal più corto Così rimaniamo poi con quello più potente E ancora più veramente visionario Come ultimo Ci facciamo una premessa Una specie di anticipo Con questo Un uomo esemplare Di Frederick Brown Quello, secondo la mia parere, divertentissimo E ripeto Un'idea assolutamente Originalissima Allora, fatemi sapere un secondo Non so se Claudia O Valeria Ha dei problemi con YouTube Perché vedo i numeri Continuare un attimo a saltellare Quindi fatemi sapere Chi c'è Velocemente Mi raccomando Vi ho parlato Vi ho parlato di questo signore Alla mia sinistra Frederick Brown Che andremo a leggere Nei prossimi Pochissimi minuti Voglio solo capire Chi c'è e chi non c'è Per chi si è collegato adesso Stiamo per leggere Due racconti di quest'autore Visionario Due racconti che vi lasceranno Veramente sterrefatti Vi divertiranno tantissimo E vi rimarranno impressi Quindi fidatevi Non ve ne andate Il primo è di 5 sole pagine Allora Va bene ragazzi Io direi che possiamo andare a leggere Il primo E poi lo commentiamo E poi vediamo se altri amici Si collegano Per il prossimo Lo leggiamo con altre persone Ma intanto noi Ci facciamo quest'antipasto Oggi mi volevo concentrare Proprio su Brown E su due racconti che ho letto Negli ultimi tempi Abbiamo letto un sacco di cose Che anch'io Non avevo mai letto Ero vergine Invece oggi torniamo A leggere un po' di racconti Che io ho letto E che vi leggo appunto Proprio perché Mi hanno colpito Estremamente L'uomo esemplare Un uomo esemplare Due due tre Ecco qua Eccoci Allora Fatemi leggere un secondo Se ci sono commenti No no A posto Perfetto Claudia ci sono No problemi Ottimo Nessun problema Allora sarò io Che vedo i numeri saltellare Va bene ragazzi Mettetevi comodi E andiamo a leggere Il primo racconto Di Frederick Brown Questo è Voilà Un uomo esemplare E buon ascolto Si chiamava Henley Al Henley E a guardarlo Non avreste certo Scommesso Sul suo avvenire Quanto al passato Se aveste conosciuto Le peripezie Della sua vita Fino al giorno In cui vennero I Dariani Non avreste mai Immaginato Di dovergli Da quel giorno in poi Infinita riconoscenza Quando il fatto Si verificò Henley era sbronzo Non che questa fosse Per lui una condizione Insolita Era sbronzo Da tempo immemorabile E aspirava A restare così All'infinito Sebbene la cosa Si facesse ogni giorno Più difficile Aveva esaurito i soldi E aveva esaurito Gli amici A cui chiederne in prestito Gli restavano i conoscenti Ma anche qui Era quasi arrivato Al fondo della lista E si considerava fortunato Se riusciva a scroccare Una media Di due bicchieri Pro capite Aveva raggiunto La fase in cui Era costretto A farsi dei chilometri A piedi Per scovare qualcuno Che conosceva appena E tentare di spillargli Un dollaro O anche solo Un mezzo dollaro La lunga camminata Annullava però L'effetto dell'ultimo bicchiere Beh, non completamente Ma quasi Per cui Alfini Va per trovarsi Nella situazione di Alice Quando stava Con la regina rossa E doveva correre Con tutte le sue forze Per restare nello stesso posto E chiedere l'elemosina Per le strade Era rischioso I poliziotti Si erano messi in testa Di eliminare La piaga Dell'accattonaggio E se Henley Ci si fosse provato Prima o poi Avrebbe finito Per passare Una notte asciutta In commissariato Cosa che temeva Sopra ogni altra Sopra ogni altra Aveva ormai raggiunto Lo stadio In cui 12 ore Senza bere Gli procuravano I supermostri Che stanno Al delirium Al delirium Tremens Come un ciclone Sta a uno zefiro Il DT Il delirium Tremens Vi dà soltanto Delle allucinazioni Se siete in gamba Sapete che è tutto Per finta Anzi Vi tengono perfino Compagnia Se vi piace Quel genere di cose Ma i supermostri Sono un'altra faccenda Per farseli venire Bisogna aver bevuto Una quantità di alcol Superiore alla capacità Di molti Che si credono Grandi bevitori E vengono soltanto Quando un uomo Che è sbronzo Da tanto tempo Che non si ricorda più Quando ha cominciato E esserlo Viene lasciato di colpo Completamente all'asciutto Per un periodo Di tempo prolungato Come per esempio In prigione Solo a pensarci Henley si sentiva Capace di qualsiasi cosa Come abbracciare Un carissimo amico Un compagno del cuore Che aveva visto Tre volte in vita sua E per di più In circostanze Non troppo favorevoli Il carissimo amico Si chiamava Kid Eggleston Ed era un gigantesco Ex pugile Mezzo suonato Che negli ultimi tempi Si era ridotto A fare il buttafuori In un locale Dove Henley Lo aveva appunto Incontrato Nell'esercizio Delle sue funzioni Ma non è il caso Che vi sforziate Di tenere a mente Il suo nome E tantomeno Che vi interessiate La sua storia Perché per quanto Riguarda questa faccenda Il Kid non resterà In scena molto tempo A essere precisi Tra un minuto e mezzo Esattamente Caccerà un urlo terribile Pionverrà a terra svenuto E non ne sentirete Parlare mai più Ma mi sia lecito Accennare di sfuggita Che se Kid Eggleston Non avesse urlato E non fosse svenuto Voi che leggete Non vi trovereste Qui in questo momento Sareste probabilmente Occupati a estrarre A torso nudo Del minerale Glanico Sotto un sole verde All'estremo limite Della galassia Posso assicurarvi Che non vi piacerebbe Affatto E perciò ricordatevi Che fu Henley A tener lontano Da voi un simile destino E che tuttora Continua a tenerlo lontano Non giudicatelo Troppo severamente Se invece di lui 3 e 9 Avessero preso il Kid Le cose oggi Sarebbero molto diverse 3 e 9 Venivano dal pianeta Dar Che è il secondo E il solo abitabile Pianeta della suddetta Stella verde Al limite estremo Della galassia 3 e 9 Non erano naturalmente I loro nomi completi I nomi d'Ariani Sono numeri E il nome completo di 3 Era 389057 792 869223 O perlomeno Questa sarebbe La traduzione Nel sistema decimale Nel momento in cui Henley cercava Di abbracciare Il suo carissimo amico Il Kid 3 e 9 Erano ancora lontani Circa un chilometro In direzione verticale Non erano su un aeroplano E neppure in un'astronave E meno che mai In un disco volante Certo So tutto sui dischi volanti Ma ve ne parlerò Un'altra volta Adesso voglio parlare Dei Dariani Erano dentro Un cubo Spazio-temporale Immagino che dovrò Spiegarvi di che cosa Si tratta I Dariani avevano Sperimentato Praticamente Come forse Un giorno Riusciremo a fare Anche noi La teoria di Einstein Avevano constatato Cioè Che la materia Non può viaggiare Più in fretta della luce Senza mutarsi in energia E voi non ci terreste Ad essere mutati in energia Vi pare? Non ci tenevano Neppure i Dariani Quando cominciarono Le esplorazioni Da un capo all'altro Della galassia Così scoprivono Che in realtà Si può viaggiare A una velocità superiore A quella della luce Se simultaneamente Si viaggia attraverso il tempo Attraverso il continuum Spazio-temporale Cioè Invece che attraverso Il solo spazio Il loro viaggio Dal pianeta Dar Copriva una distanza Di 163.000 anni luce Ma dato che simultaneamente Avevano viaggiato Nel passato di 1630 secoli La durata effettiva Del viaggio Era ridotta a zero Al ritorno Avevano viaggiato 1630 secoli Nel futuro Ed erano arrivati Al punto di partenza Nel loro continuum Spazio-temporale Capite cosa voglio dire Spero In ogni modo C'era questo cubo Invisibile ai terrestri Circa mille metri Sopra Filadelfia E non chiedetemi Perché avessero scelto Filadelfia Non so come possa Venire in mente Di scegliere Filadelfia Per qualsiasi cosa Era sospeso lassù Da quattro giorni Mentre tre e nove Intercettavano E studiavano Le trasmissioni radio Per farsi un'idea Della lingua E imparare a parlarla Non che si interessassero Alla nostra civiltà In quanto tale E ai nostri usi E costumi in quanto tali Niente di simile Ti pare che si possa Avere un'idea Della vita Che fanno gli abitanti Della terra Ascoltando i concorsi musicali Gli indovinelli a premio E i comunicati pubblicitari No Quel che volevano sapere Era se la nostra civiltà Fosse abbastanza evoluta Da rappresentare Una minaccia per loro E alla fine Di quei quattro giorni Si convinsero Che non lo era Non si può fargliene Una colpa E del resto Non si sbagliavano Allora Scendiamo? Chiese tre a nove Sì Disse nove a tre Tre si attorcigliò Sui comandi Certo che t'ho visto combattere Stava dicendo Henley Eri un campione Kid Puoi ringraziare Quell'idiota del tuo manager Se non sei arrivato in cima La stoffa ce l'avevi Perché non andiamo a berci Sopra qui All'angolo? Paghi tu o pago io Henley? Beh In questo momento Sono un po' a terra Kid Ma ho bisogno di bere A ricordo dei bei tempi Tu hai bisogno di bere Come io Ho bisogno di spararmi Un colpo Sei già sbronzomarcio E faresti meglio A smettere Prima che ti salti addosso Il DT Ce l'ho già Disse Henley E non mi fa Ne caldo Ne freddo Guarda Stanno arrivando Proprio dietro di te Senza riflettere Kid Eggleston Si volse E guardò Gettò un urlo E cadde svenuto Tre e nove Si stavano avvicinando Dietro di loro Si intravedeva La sagoma nebulosa Di un cubo gigantesco Dieci metri almeno di lato Un cubo che c'era E non c'era nello stesso tempo Questa era la cosa più strana E fu probabilmente il cubo Soprattutto a spaventare il Kid Perché tre e nove Non avevano proprio niente Di spaventoso Erano vermiformi Lunghi circa cinque metri Quando si stiravano E spessi una trentina Di centimetri nel mezzo Affusolati alle due estremità Erano di un bel colore azzurrino E non avevano organi sensoriali visibili Per cui non si poteva sapere Quale fosse la testa E quale la coda E del resto Non aveva nessuna importanza Dato che entrambe le estremità Erano esattamente identiche E sebbene si stessero avvicinando A Henley E al Kid Afflosciato a terra Non sembravano neppure Avere un davanti E un dietro Erano nella loro normale Posizione inanellata E fluttuante Salve ragazzi Disse Henley Avete messo paura Al mio amico E lui mi avrebbe offerto da bere Se gli davo il tempo Di farmi una bella predica Così adesso Tocca a voi offrire Reazione illogica Disse 3 a 9 Come quella dell'altro esemplare Del resto Li prendiamo tutti e due No L'altro per quanto più grosso È chiaramente più debole E un esemplare solo Basterà ampiamente Vieni con noi Henley fece un passo indietro Se avete intenzione Di offrirmi da bere Va bene Altrimenti voglio sapere Dove Dar Per me è tutto lo stesso Purché prima Mi offrete da bere Dobbiamo usare la forza Disse 3 a 9 Non è necessario Se viene di sua volontà Vuoi entrare nel cubo Di tua volontà C'è roba da bere là dentro Sì Entra Henley camminò spontaneamente Fino al cubo Ed entrò Beninteso Non credeva che ci fosse davvero Ma che cosa aveva da perdere E quando uno ha le allucinazioni È meglio non contrariarle Il cubo era solido Niente affatto amorfo E neppure trasparente dall'interno 3 si avvitichiò Intorno ai comandi E prese a manipolare delicatamente Certi delicati meccanismi Con le due estremità Siamo nell'interspazio Disse a 9 Direi di restare qui Fermi Finché non abbiamo esaminato A fondo questo esemplare E non sappiamo Se è adatto o no Ai nostri scopi Ehi Dico Ragazzi Non si era parlato di bere Henley cominciava a innervosirsi Le mani gli tremavano E sentiva dei ragni Correregli su e giù La spina dorsale Dal di dentro Si direbbe che stia soffrendo Osservò 9 Forse di fame Che cosa bevono queste creature Acqua ossigenata come noi La superficie del loro pianeta È quasi tutta ricoperta di un liquido Che contiene del cloruro di sodio Potremmo prepararli in una dose Henley gridò No No E nemmeno senza sale Non ho bisogno d'acqua Io ho bisogno di whisky Possiamo analizzare il suo metabolismo Disse 3 Con l'intrafluoroscopio Sarà questione di un momento Si srotolò dai comandi E si appresso a una strana macchina Lampeggiarono luci colorate 3 disse Che strano Il suo metabolismo dipende dal C2H5OH C2H5OH Sì Alcol Fondamentalmente Almeno Con una certa quantità di H2O Diluita E senza il cloruro di sodio Presente nei loro mari Oltre a dosi minime di altri ingredienti Sembra che sia stato l'unico nutrimento Di questa creatura Per un periodo piuttosto lungo È presente nel suo sistema circolatorio E nel cervello Per il 234% Il suo metabolismo Sembra interamente basato Su questa sostanza Ragazzi Implorò Henley Muoio se non mi date da bere Perché non la piantate di parlare arabo E non fate passare la bottiglia? Un momento prego Disse Nove Ti preparerò la bevanda Di cui hai bisogno Prima devo applicare la scala Vernier Sull'intrafluoroscopio E usare lo psicometro Si accesero lampeggiando altre luci E Nove si ritirò nell'angolo del cubo Che era riservato al laboratorio Due minuti dopo era già di ritorno Con in mano un recipiente graduato Che conteneva circa un litro Di un liquido ambrato e limpido Henley lo annusò Poi lo assaggiò Mandò un profondo sospiro Sono morto Disse Questa è Ambrosia Il nettere degli dei Non esiste un liquore come questo Non c'è sulla terra Beve un lunghissimo sorso E non gli brucia neppure la gola Che cos'è Nove? Chiese Tre Una formula piuttosto complessa Che risponde esattamente A tutte le sue necessità C'è il 50% di alcol E il 45% di acqua Ma gli ingredienti Che compongono il restante 5% Sono numerosissimi Comprendono tutte le vitamine E minerali Di cui il suo organismo ha bisogno In proporzioni calibratissime E tutti in sapori Poi ci sono altri ingredienti In quantità infinitesimali Per migliorare il gusto Secondo il suo criterio di valutazione Per noi sarebbe atroce Anche se potessimo bere acqua O alcol Henley sospirò E tornò a bere lungamente Barcollò leggermente Guardò Tre e rise Adesso lo so che non esistete Disse Che cosa intende dire? Chiese 9 a 3 I suoi processi mentali Sembrano privi di qualsiasi logica Non so se la sua specie Ci darebbe dei buoni schiavi Ne dubito Comunque dovremmo Dovremmo assicurarsene Si rivolse a Henley Si rivolse a Henley Come ti chiami? Chiese Hai un nome? Che cos'è un nome, amico? Chiese Henley Dammi il nome che vuoi Tu e il tuo amico Siete i miei più cari amici Potete portarmi dove vi pare E piace Ditemi solo quando siamo arrivati Beve un altro lungo sorso E si sdraiò sul pavimento Subito cominciò a emettere strani rumori Ma né 3 né 9 Riuscirono a capire se fossero o no parole Zzz Glup Zzz Glup Cercarono di svegliarlo Di smuoverlo Ma non ci fu verso Rimasero ad osservarlo Raccogliendo tutti i dati che poterono Solo dopo parecchie ore Henley si svegliò Si rizzò a sedere E li guardò a occhi sgranati Disse Non ci credo Voi non siete qui Non esistete Per l'amor di Dio Datemi da bere Presto Gli dedero la bottiglia graduata 9 l'aveva di nuovo riempita Questa volta fino all'orlo Henley beve I suoi occhi si chiusero La sua espressione si fece statica Disse Non svegliatevi Ma sei già sveglio Allora non fatemi dormire Ho capito cosa deve essere Ambrosia La roba che bevono gli dèi Chi sono gli dèi? Non esistono Ma è questo che bevono Sull'Olimpo 3 disse Processi mentali del tutto privi di logica Henley alzò la bottiglia Disse Lui è mio amico E io sono suo amico Anche lui è mio amico Siamo tutti amici Che razza di discorso fa? Disse 9 a 3 Amico fa rima con dito No Con Con Troppo stupido Perché lo si possa addestrare L'altro che ha il più elementare Lavoro fisico Disse 3 Ma se fosse abbastanza robusto Per i lavori pesanti Potremmo pur sempre consigliare Un'incursione in forze Su questo pianeta Ci sono probabilmente Non meno di 3 o 4 miliardi Di abitanti E abbiamo bisogno Di mano d'opera Non qualificata 3 o 4 miliardi Ci sarebbero di grande aiuto Hurra Disse Henley Non coordina molto bene A quanto sembra Disse 3 pensieroso Ma forse è dotato Di notevole forza fisica Creatura Come dobbiamo chiamarti Chiamatemi a Ragazzi Henley stava cercando Di alzarsi in piedi È il tuo nome O la tua specie E in ogni caso È la tua denominazione Completa Henley si appoggiò al muro Riflettendo È la specie Disse alla fine Sta per Ora ve lo traduco In latino Lo tradusse in latino Vogliamo misurare La tua forza fisica Corri avanti e indietro Da questo lato del cubo All'altro Finché non sei stanco Da a me la bottiglia Del tuo cibo Tolse di mano a Henley La bottiglia graduata Henley annaspò con le mani Ancora un sorso Solo un piccolo sorso Poi correrò quanto volete Forse ne ha bisogno Disse 3 Ridaglielo 9 Poteva essere l'ultima Per un pezzo E così Henley Fece una bella bevuta Poi agitando allegramente Le mani Salutò i quattro dariani Che sembrava lo stessero guardando Disse Ci vediamo alle corse ragazzi Vi aspetto tutti E puntate su di me Vi farò vincere Ancora un sorsino Prima del via Mandò giù ancora un sorsino Una goccia sola Questa volta Meno di un quarto di litro Basta Disse 3 Adesso corri Henley fece due passi E stramazzò con la faccia per terra Si rotolò sulla schiena E rimase lì Un sorriso di abbiatitudine sul volto Incredibile Disse 3 Forse sta cercando di ingannarci Controlla un po' 9 9 controllò Incredibile Disse Assolutamente incredibile Dopo uno sforzo così breve Eppure ha perso del tutto conoscenza Al punto che è diventato insensibile al dolore E non è certo un simulatore Questo tipo di creatura Non può essere di nessuna utilità Al nostro pianeta Metti in moto Torniamo a fare il nostro rapporto Lo prenderemo con noi Secondo gli ordini Come esemplare per il giardino zoologico Ne vale la pena Fisicamente è l'essere più strano Che abbia scoperto fra milioni di pianeti 3 si avvoltolò intorno ai comandi E con le due estremità Avviò vari meccanismi 163.000 anni luce E 1630 secoli trascorsero Annullandosi a vicenda Così totalmente perfettamente Che né il tempo né la distanza Sembravano essere stati attraversati Nella città capitale di Dar Che governa migliaia di pianeti utili E ne ha visitati milioni di inutili Come la terra Al Henley occupa una grande gabbia Di vetro collocata al posto d'onore Come meritano gli esemplari Più stupefacenti Al centro della gabbia C'è una vasca Alla quale egli si abbevera di frequente E nella quale è stato visto fare il bagno La vasca viene continuamente Automaticamente rifornita Di una bevanda Che sta al miglior whisky terrestre Come il miglior whisky terrestre Sta all'acqua di rigovernatura Per di più è rinforzata Senza il minimo sapore Con tutte le vitamine e i minerali Che il suo metabolismo richiede Non dà il mal di testa E non provoca altri spiacevoli effetti È una bevanda che manda invisibilio Henley Esattamente come la strabiliante Conformazione di Henley Manda invisibilio ai visitatori dello zoo Che lo guardano con occhi attoniti E poi leggono la targhetta sotto la gabbia Che comincia in latino Con la denominazione della specie Che è Al Liveloa 3 e 9 Alcoholicus Anonymous Vive di una dieta di C2H5OH Integrata con vitamine e minerali Capace a tratti di manifestazioni intelligenti Ma privo di qualsiasi senso logico Prestazioni fisiche Capace di rimuovere alcuni passi senza cadere Privo di qualsiasi valore commerciale Costituisce tuttavia un interessante esemplare Della più strana forma di vita Finora scoperta nella galassia Luogo di origine Pianeta numero 3 Del sole JK6547HG908 Così strano anzi Che l'hanno sottoposto a un trattamento speciale Che lo rende praticamente immortale E meno male Perché come esemplare zoologico È così interessante Che se mai venisse a morire Potrebbero tornare sulla Terra Per catturarne un altro E potrebbero beccare voi O me E voi o io Secondo il caso Potremmo in quel momento Essere perfettamente sobri E questo sarebbe un bel guaio Per tutti Fine Questo era un uomo esemplare Di Frederick Brown Adesso Lascio a voi la parola Ditemi voi Che cos'è questo racconto E se non ho ragione E mi raccomando Se non siete d'accordo Ditemelo Perché siamo qua per questo Però Io non riesco a togliere il mio sorriso di bocca È la seconda volta che lo leggo E Non ho Non ho una Una Critica Che dire Ciao Alixa Buonasera a tutti Eccola Allora Alixa Purtroppo ti sei appena persa Il racconto diciamo più breve Che leggiamolo oggi Ma non ti preoccupare Perché stiamo per leggere Il racconto più lungo E quello Veramente geniale Di Frederick Brown Ma il racconto che abbiamo letto Adesso Poi vattelo a risentire Perché è veramente Veramente una delle cose più divertenti A mio parere Che ci siano in letteratura Quello che ho letto io ovviamente Che è l'1% di quello che esiste In letteratura Non sia mai Però Sono due racconti Quello ho letto E quello che andiamo a leggere adesso Che mi hanno veramente sconvolto Che ho letto E che volevo Leggervi proprio perché Li ho amati tantissimo E volevo vedere se Anche voi provavate Un certo tipo di sensazione Allora Aspetto i vostri commenti Su un uomo esemplare Spero Siete riusciti ad ascoltarlo Tutto perfettamente Senza problemi Alixa Mi fa piacere Non conosco quest'autore Guarda Ripeto velocemente Quello che ho detto prima Alle altre persone La fantascienza Non è il mio mondo Non l'ho mai stato Eppure io Questi due racconti Di Frederick Brown Quello che ho appena letto Che spero andrà a risentire E quello di Che andiamo a leggere adesso Sono veramente Nel mio cuore Nella mia memoria Dal momento in cui L'ho letto E mi sono innamorato La follia Perché sono geniali Ed è la fantascienza Appunto che apprezzo Scritta Nel passato Durante il novecento All'inizio del novecento Fino agli anni sessanta Settanta Da autori che Erano veramente visionari Valeria Molto strano È fantascienza Ironica Cosa Cosa ne pensi Molto Beh È proprio Fa anche riflettere Sul fatto che Se esistesse Veramente una specie Superiore Che Che venisse a Se questa specie Venisse a cercare Di Conquistarci Di colonizzarci E di usarci come schiavi E dovessero Solo prendere Un esemplare E questo esemplare È completamente ubriaco Questo è il senso Di questo racconto È Non so che dire Claudio Pariscenti Dice Ironico Allora Vediamo un attimo Se c'è una virgola Forse stava scrivendo Un altro commento Ma io Non so Io l'ho trovato Meraviglioso Questo racconto Di un'ironia Veramente Geniale E La cosa Impressionante Secondo me La cosa che mi ha colpito In particolare Per farvi capire È che La sua scrittura Secondo me È stupenda Forse non ci avete fatto Troppo caso Ma la sua scrittura È veramente Veramente Bella Molto 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 Particolare E secondo me Molto chiara Io Parlando di fantascienza E a volte appunto Parlando di cose Che spesso Sono anche inventate Oppure Prendono ispirazione Da Da codici O da Da distanze O da numeri E trovo che sia Molto chiaro E Abbia Un'originalità Pazzesca Questo Frederick Brown Cos'è che era La frase Ci sono delle frasi Che a me Veramente Fanno impazzire Cavolo Adesso Non mi ricordo Cos'è che volevo Rileggervi Allora Valeria dice Chissà quanti Fraintendimenti Possono esserci Nella scienza Se partiamo Da un unico Esemplare Di una specie Esatto 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 Questi fanno Tutta la galassia E prendono un esemplare Lasciano a terra Quello grosso Ma debole Perché è svenuto Pensate se Avessero preso L'ex pugile Sobrio E forte E' bellissimo Anche il finale Mi piace un sacco Che si rivolge di nuovo Come all'inizio A noi Se prendessero Potrebbero beccare Voi o me E voi o io E secondo il caso Potremmo in quel momento Essere perfettamente Sobri E questo sarebbe Un bel guaio Per tutti Mamma mia Troppo bello Secondo me Allora Mentre aspetto I vostri commenti Faccio ripartire Instagram Velocemente Scrivetemi Intanto Mi raccomando Così andiamo A leggere Il racconto A mio parere Epocale Di fantascienza Una delle cose Più belle Che abbia letto Eccolo qua Perché Come vi dicevo Prima Il racconto Che poi andiamo A leggere Come un po' questo Ma quello In grandissima parte Perché è proprio Una storia Molto più Seria Più potente È un racconto Che Vedevo Io vedevo Ogni frase La vedevo Sentivo Il freddo Sentivo il caldo Sentivo la sabbia Sentivo Ha creato Un mondo Veramente Che A livello visivo Io sono riuscito A vedere perfettamente Ed è questa La cosa che vorrei Ed è questo il motivo Per cui voglio Leggervi questo racconto Per vedere cosa provate Perché io L'ho L'ho Sentito Questo racconto Sulla pelle Valeria dice Forse Vuole farci riflettere Sulle generalizzazioni Anche 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 Ma io credo Che sia anche stata Un'idea brillante Che ha causato Appunto Poi un'esplosione Di creatività E di Ironia pazzesca E che poi Io Sono d'accordo Poi le cose Passione Uno spettatore Uno spettatore È quasi socio Il video Il video su instagram Allora Ok Alixa rimani qua Mi raccomando Eccoci qua Perfetto Va bene ragazzi Allora Rimanete comodi Fatemi aprire la pagina De Il duello Il cui titolo originale Ripeto È L'arena Scusate Arena Un titolo Forse ancora più bello A mio parere Ma tutti e due titoli Sono assolutamente Azzeccati 131 Eccoci qua Se come me Non siete fan Della fantascienza Cercate di Avere Il cuore aperto E lasciarvi trasportare Da questa storia E vediamo cosa vi fa provare Di sicuro i gusti Sono diversi Quindi non è Assolutamente un problema Che qualcuno apprezza Una cosa più di un'altra Assolutamente Buon ascolto ragazzi Questo qua È Il duello Sempre Di Frederick Brown Buon ascolto Carson aprì gli occhi E vide sopra di sé Un'immensa volta azzurra Faceva molto caldo E Carson Steso supino Sulla sabbia Sentiva la punta A guzza di un sasso Penetrarli nella schiena Rotolò su un fianco Lontano dal sasso E aiutandosi con le mani Si alzò a sedere Sono pazzo Pensò Pazzo O morto La sabbia era azzurra D'un azzurro intenso E non c'era sabbia Di quel colore sulla terra Né sugli altri pianeti Sabbia azzurra Sabbia azzurra Sotto una volta azzurra Che non era il cielo Che non era il soffitto Di una stanza Ma di un'area Circoscritta Intuiva Che doveva essere Circoscritta E finita Anche se non poteva Vedere che cosa Ci fosse fuori Raccolse una manciata Di sabbia E se la fece scorrere Tra le dita Sulla gamba Fu allora Che si accorse Che la gamba Era nuda Era completamente nudo E il suo corpo Era malido di sudore In quella calura soffocante E coperto di larghe chiazze azzurre Laddove era venuto A contatto con la sabbia Ma altrimenti La sua pelle era bianca Pensò Allora questa sabbia È davvero azzurra Se fosse la luce A darle questo colore Dovrei essere azzurro Anch'io Ma io sono bianco E perciò la sabbia È veramente azzurra Sabbia azzurra È una cosa che non esiste Il luogo in cui mi trovo Non esiste Il sudore Gli collava Dalla fronte e negli occhi Faceva caldo Più caldo dell'inferno Solo che l'inferno L'inferno degli antichi Avrebbe dovuto essere rosso Non azzurro Ma se non era l'inferno Che cos'era? Solo Mercurio Fra i pianeti Aveva una temperatura Paragonabile a questa E questo non era Mercurio Mercurio era Più di 4 miliardi di miglia Da A E in quel momento Ricordò dove si trovava prima Nel piccolo razzo vedetta Oltre l'orbita di Plutone A incrociare nello spazio A meno di un milione di miglia Dalla flotta terrestre Schierata in ordine di battaglia Per intercettare gli invasori Quell'improvviso stridulo Lacerante clangore Della suoneria d'allarme Quando la vedetta nemica Il razzo invasore Era entrata nel raggio Dei suoi segnalatori Nessuno sapeva Chi fossero gli invasori Che aspetto avessero Da quale galassia provenissero Se non che questa Si trovava approssimativamente Nella direzione delle Pleiadi Delle Pleiadi Da principio Sporadiche incursioni Contro le colonie E gli avamposti terrestri Scontri isolati Tra le pattuglie terrestri E piccoli gruppi Di astronavi nemiche Battaglie ora vinte Ora perse Senza che mai Tuttavia Un vascello degli invasori Cadesse nelle mani terrestri Né mai sarà dato il caso Che qualche colono Sopravvivesse ai loro colpi di mano E potesse descrivere Gli invasori Sbarcati a razziare Ammesso che davvero Fossero sbarcati Una minaccia Non troppo grave Da principio Perché la scorrerie Non erano troppo frequenti Né le distruzioni Troppo gravi Individualmente Le astronavi nemiche Si erano rivelate inferiori Come armamento Ai migliori razzi Da combattimento terrestri Sebbene superiori In velocità E manovrabilità Una superiorità Questa Che permetteva Agli invasori Di non accettare Al caso Lo scontro E fuggire indisturbati A meno che fossero circondati Non di meno La Terra Si era preparata Come per un pericolo gravissimo In vista di una battaglia decisiva E aveva costruito La più potente flotta Di tutti i tempi Era rimasta inattiva Per anni E anni Questa flotta Ma Olaros Ora lo scontro risolutivo Si approssimava Le vedette Che incrociavano Negli spazi intergalattici A miliardi di miglia Dalla Terra Avevano segnalato L'avvicinarsi Di una potente flotta La flotta risolutiva Degli invasori Quelle vedette Non erano mai ritornate Ma i loro messaggi Radiotronici Si E ora La flotta terrestre Diecimila astronavi E mezzo milione Di uomini Era laggiù Oltre l'orbita Di Plutone E attendeva il nemico Per la prima E l'ultima Grande battaglia E si annunciava Come una battaglia Ad armi pari A giudicare Dai rapporti Degli uomini Della linea più avanzata Che avevano dato la vita Per riferire Prima di trovare la morte Sulla consistenza E sulla forza Della flotta nemica Una battaglia D'esito incerto Che avrebbe dato Al vincitore Il dominio assoluto Del sistema solare Una battaglia unica Da cui dipendeva Il destino della terra E di tutte le sue colonie Si Bob Carson Ricordava Ora Non che questo Spiegasse la sabbia azzurra La luce azzurrogno La della volta Ma quel suono Lacerante dell'allarme E il suo balzo Verso il cruscotto L'annaspare Delle sue dita Intorno alle cinghie Di sicurezza Il punto nero Che ingrandiva rapidamente Sullo schermo L'aridità improvvisa Della bocca Il pensiero pauroso Che era finalmente Giunto il grande momento Per lui In ogni caso Sebbene le flotte Fossero ancora fuori Tiro L'una dall'altra Il suo battesimo Entro tre secondi Meno ancora Avrebbe vinto O sarebbe stato cenere Morto Tre secondi Tanto durava Una battaglia spaziale Il tempo di contare Fino a tre Lentamente E poi O la vittoria O la morte Bastava una sola scarica Per incenerire completamente Un piccolo razzo Monoposto Come il suo Convulsamente Mentre Suo malgrado Le sue labbra secche Formavano la parola Uno Carson Carson manovrò i comandi In modo da tenere Quel puntino Sempre più grande Inquadrato Dentro la sottile Ragnatela Del video E intanto Il suo piede destro Stava sospeso Sul pedale Che avrebbe fatto Partire la scarica Un'unica scarica D'inferno Concentrato Che doveva far centro Che doveva far centro Spirò il pedale Essere reale Era impossibile Il pianeta più vicino Era Nettuno A tre miliardi di miglia E Plutone Era dalla parte opposta Del lontanissimo punto Luminoso del sole I suoi segnalatori Nemmeno essi Avevano avvertito La presenza Di un oggetto Di dimensioni planetarie O di dimensioni Asteroidali E tuttora Non segnalavano nulla Dunque Non poteva essere reale Quella cosa Verso cui Stava precipitando Poche centinaia di miglia Sotto di lui E nella paura improvvisa Di sfracellarsi Contro quell'ostacolo Dimenticò perfino La nave nemica Sparò i razzi Anteriori frenanti E mentre la brusca Perdita di velocità Lo scaraventava Contro le cinghie Di sicurezza Azionò la leva Della virata d'emergenza L'abbassò E la tenne abbassata Sapendo che solo così Avrebbe potuto evitare La catastrofe E che una virata Così tremenda Gli avrebbe fatto Perdere i sensi Per un istante Perse i sensi E questo era tutto Ora stava seduto Su quella sabbia azzurra E rovente Completamente nudo Ma altrimenti illeso Non c'era traccia Della sua spazionave Non c'era Del resto Non c'era del resto Traccia dello spazio Qualunque cosa fosse Quella volta azzurra Sopra di lui Non era Non era certamente Il cielo Si alzò Faticosamente in piedi La gravità Era leggermente Superiore a quella terrestre Ma di poco Una piatta Distesa di sabbia Qualche arbusto Contorto qua e là Anche gli arbusti Erano azzurri Ma variavano nei toni Alcuni più chiari Dell'azzurro della sabbia Altri più scuri Di sotto al cespuglio Più vicino Sbucò un animaletto Che somigliava A una lucertola Tranne che aveva Più di quattro zampe Era azzurro Di un azzurro intenso Vide Carson E tornò a nascondersi Sotto il cespuglio Carson torna a guardare In alto Cercando di capire Che cosa fosse Quella volta Non era esattamente Un tetto Ma aveva forma di cupola Sprigionava una luce tremula Che faceva male agli occhi Ma scendeva Curvandosi fino a terra Fino a toccare La sabbia azzurra Tutto intorno a lui Calcolò che doveva essere Pressa poco Sotto il centro Della cupola A occhio e croce Doveva trovarsi A circa una trentina Di metri Dal muro più vicino Ammesso che fosse Un muro Era come se Un emisfero azzurro Con una circonferenza Di 200 metri Fosse stato capovolto Sulla piatta distesa Di sabbia E tutto era azzurro Tranne una cosa Laggiù Dove il muro Si incurvava A toccare la sabbia Carson scorse Un oggetto rosso Di forma sferica Sembrava avere Un diametro Di circa un metro Troppo lontano Perché potesse Vederlo bene In quella luce tremolante Ma senza sapere perché Era brividì Si asciugò Il sudore della fronte Con il rovescio Della mano Era un sogno Un incubo Questo caldo Questa sabbia Quel vago senso Di ribrezzo Che provava Guardando la sfera rossa Laggiù Un sogno No Non si cadeva Addormentati Non si sognava Nel vivo Di una battaglia spaziale La morte No Impossibile Se esisteva L'immortalità Non sarebbe stata Una cosa insensata Come questa Caldo Sabbia Ribrezzo Poi sentì la voce L'audì risuonare L'audì risuonare Dentro la sua testa Ma non con le orecchie Veniva da ogni parte O da nessuna Vagando tra spazi e dimensioni Suonarono nella sua mente Le parole E in questo spazio E in questo tempo Trovo due popoli Che stanno per affrontarsi In una battaglia Che sterminerebbe l'uno E indebolirebbe l'altro Tanto da farlo regredire Decadere E tornare alla polvere Inconsapevole Da cui era sorto E io dico Che questo non deve accadere Chi Che cosa sei tu? Carson Carson non lo disse A voce alta Ma la domanda Gli si formò nella mente Non puoi comprenderla Io sono Ci fu una pausa Come se la voce Stesse cercando Nella mente di Carson Una parola che non c'era Una parola che il suo cervello Non conosceva Sono il culmine evolutivo Di una razza Così antica Che la sua durata Nel tempo Non può essere espressa In parole Che abbiano significato Per te Una razza fusa In un'unica entità Eterna Un'entità quale La tua razza Ancora primitiva Può diventare Di nuovo La ricerca di una parola Un giorno E potrà diventarlo Anche la razza Che nella tua mente Tu chiami gli invasori Perciò sono intervenuto Nella battaglia imminente La battaglia Tra due flotte Di forza così equivalente Che entrambe le razze Sarebbero state annientate Una delle due Deve sopravvivere Una deve progredire Ed evolvere Una sola Pensò Carson La mia o È il mio potere Di impedire la guerra Di ricacciare gli invasori Nella loro galassia Ma essi ritornerebbero Oppresso o tardi La tua razza Li inseguirebbe laggiù Solo restando In questo spazio In questo tempo E intervenendo continuamente Potrei impedirvi Di distruggervi a vicenda E io non posso restare Perciò intervengo ora Distruggerò completamente Una delle due flotte Senza che l'altra Subisca la minima perdita In tal modo Una delle due civiltà Potrà sopravvivere Un incubo Non poteva non essere un incubo Pensò Carson Ma sapeva che non lo era Era una cosa troppo folle Troppo impossibile Per non essere reale Non osava porre La domanda Quale delle due Ma la sua mente La formulò per lui La più forte sopravviverà Disse la voce Non posso e non voglio Imporre una decisione ultima Interverrò soltanto Per far sì Che la vittoria sia totale Che il vincitore Esca indenne dallo scontro Dai due campi opposti Ho scelto due individui Te e un invasore Tu e il tuo avversario Vi batterete ora qui Nudi e disarmati In condizioni ambientali Insolite per entrambi Disagevoli per entrambi Non vi è limite di tempo Perché qui non vi è tempo Qualui che sopravviverà Sarà il campione Della sua razza La razza che sopravvive Ma la protesta di Carson Era troppo inarticolata Per poter essere espressa Ma la voce rispose Nessuno dei due Gode di un vantaggio iniziale Le condizioni sono tali Per cui una maggiore forza fisica Non basterà A determinare l'esito del duello C'è una barriera Lo capirà in seguito Intelligenza e coraggio Saranno più importanti Della forza Soprattutto il coraggio Che ha la volontà Di sopravvivere Ma mentre noi combattiamo Le flotte no Voi vi trovate in un altro spazio In un altro tempo E finché voi resterete qui Il tempo resterà immobile Nell'universo a voi noto Vedo che ti chiedi Se questo luogo è reale Lo è E non lo è Così come Al tuo intelletto limitato Io che ti parlo sono E non sono reale La mia esistenza è mentale Non fisica Tu mi hai visto come un pianeta Avrebbe potuto essere Un granello di polvere O un sole Ma per te Questo luogo è ora reale Ciò che patirai qui Sarà reale E se muori qui La tua morte sarà reale Se muori La tua sconfitta Significherà la fine Della tua razza Altro non hai bisogno Di sapere E poi la voce t'acque Di nuovo Carson Si trovò solo Ma non solo Perché alzando gli occhi Vide l'oggetto rosso La rossa spera d'orrore Che ora sapeva essere Un invasore Precipitarsi verso di lui Rotolando Sembrava priva di gambe Di braccia E non aveva volto Rotolava sulla sabbia azzurra Con la velocità fluida Di una goccia di mercurio E davanti alla sfera Misteriosamente emessa Correva un'onda invisibile D'odio nauseante Atroce Paralizzante Carson si guardò Intorno febbrilmente Un sasso Semisepolto nella sabbia Un metro da lui Era l'unica arma A portata di mano Non era grande Ma aveva margini taglienti Come una scheggia di selce E la materia era Un po' come selce azzurra Lo raccolse E si dispose Ad affrontare l'assalto La sfera si avvicinava rapidissima Più in fretta Di quanto lui potesse correre Non c'era tempo Per scogitare Un piano di lotta E del resto Che tattica usare Con una creatura Di cui ignorava la forza Le caratteristiche Il modo di combattere Rotolando a quella velocità Pareva perfettamente sferica Era a dieci metri da lui A cinque E a questo punto si fermò O piuttosto Venne fermata Di colpo La parte più vicina Della sfera si appiattì Come se avesse cozzato Contro un muro invisibile Rimbalzò Rimbalzò letteralmente indietro Poi tornò a rotolare in avanti Ma più ad agio Più cauta Si fermò di nuovo Nello stesso punto Tentò ancora Spostandosi qualche metro di lato Doveva esserci una barriera E all'improvviso Carson ricordò Gli tornò in mente La frase proiettata dentro di lui Dall'entità che gli aveva portati qui Una maggiore forza fisica Non basterà determinare L'esito del duello C'è una barriera Un campo di forza Naturalmente Non il campo neziano Noto agli scienziati terrestri Perché quello emetteva Un forte chiarore E un continuo crepitio Questo era invisibile Silenzioso Era come un muro Che tagliava a metà L'emisfero capovolto Carson non aveva bisogno Di verificare Lo stava facendo il suo avversario Che rotolava lungo la barriera In cerca di un varco Che non c'era Carson avanzò Di una decina di passi E il braccio sinistro Teso in avanti Finché la mano incontrò La barriera Era liscia e cedevole Come in un foglio di gomma Più che di vetro Calda al tatto Ma non più Della sabbia Sotto la pianta dei piedi Ed era completamente invisibile Anche da vicino Lasciò cadere il sasso Si appoggiò Con entrambe le mani Alla barriera E spinse Gli sembrò che cedesse Sia pure di pochissimo Ma anche quando spisse Con tutto il peso del corpo Non riuscì a smuoverla di più Era come un velo di gomma Che nascondesse Una massa d'acciaio Elasticità limitata E poi durezza impenetrabile Si alzò sulla punta dei piedi Allungò le braccia Verso l'alto Ma le mani Incontrarono la barriera Anche in quella direzione Vide la sfera tornare Dopo aver raggiunto Una estremità dell'arena Carson provò di nuovo Quel senso di nausea atroce E ardetrò di qualche passo Mentre l'avversario Passava davanti a lui Senza fermarsi Ma finiva A livello del suolo La barriera Carson si inginocchiò E cominciò a scavare Nella sabbia Era soffice Leggera Facile da smuovere A mezzo metro di profondità La barriera c'era ancora La sfera stava di nuovo Tornando verso di lui Evidentemente Non aveva trovato un varco Né a destra Né a sinistra Eppure ci deve essere un varco Pensò Carson Un modo per venire Alle mani direttamente Altrimenti questo duello Non ha senso Ma per ora Non c'era fretta Avrebbe cercato La soluzione più tardi Ora doveva tentare Un'altra cosa La sfera era tornata Alla sua altezza Dall'altra parte Della barriera E si era fermata Due metri da lui Sembrava lo stesso Studiando Sebbene Carson Riuscisse a distinguere Traccia alcuna Di organi sensoriali Sulla superficie Della creatura Nulla che potesse Far pensare agli occhi Alle orecchie O a una bocca C'era tuttavia Notò Una serie di scanalature Una dozzina circa In tutto E all'improvviso Vide due tentacoli Schizzare da due Di queste scanalature E affondare nella sabbia Come per saggiarne La consistenza Tentacoli del diametro Di tre centimetri circa E lunghi un mezzo metro Ma i tentacoli Erano retrattili Restavano dentro Le scanalature Se non quando La creatura Se ne serviva Mentre la sfera Rotolava Non si vedevano E sembravano dunque Del tutto estranei Al suo sistema Di locomozione Che evidentemente Dipendeva dal rapido E continuo spostamento Ottenuto chissà In che modo Dal centro di gravità Carson guardò L'avversario Con un brivido Di ribrezzo Era veramente Un essere estraneo A lui Totalmente estraneo Mostruosamente diverso Da qualsiasi forma Di vita esistente Sulla Terra O sugli altri pianeti Del sistema solare Istintivamente Intui che anche La mente dell'altro Gli era estranea Quanto il corpo Ma doveva tentare Ugualmente Se la sfera Non era dotata Di poteri telepatici Il suo tentativo Era fallito Prima di cominciare Pure Carson Non disperava Di poter comunicare Con l'avversario Pure Carson Non disperava Di poter comunicare Con l'avversario Pochi minuti prima Quando si era precipitata Verso di lui La sfera aveva proiettato Qualcosa di non fisico Un'onda d'odio Quasi tangibile E se era riuscita A trasmettere Era forse in grado Di captare il suo pensiero Quanto bastava Per lo scopo Che egli si proponeva Lentamente raccolse il sasso Che era stata La sua unica arma Poi lo lasciò ricadere Con un gesto di abbandone E alzò le mani vuote Le palme in fuori Verso il nemico Parlò ad alta voce Sapendo che Sebbene le parole Non avessero alcun significato Per la creatura Che gli stava di fronte Potevano servire a lui Per concentrare meglio Il suo pensiero Sul messaggio Che voleva far giungere All'altro Perché non può esserci Pace tra noi Disse E la sua voce Aveva una strana risonanza Nell'assoluto silenzio L'entità Che ci ha portati qui Ci ha detto Che cosa accadrebbe Se le nostre due razze Si affrontassero in battaglia L'estinzione dell'una E l'indebolimento E regressione dell'altra L'esito della battaglia Ha detto l'entità Dipende da ciò Che faremo noi due qui Perché non ci accordiamo Per una pace eterna La tua razza nella sua galassia Noi nella nostra Carson allentò la concentrazione In attesa della risposta E la risposta venne E fu tale da farlo indietreggiare Fisicamente Suo malgrado vacillò sotto la furia L'intensità dell'odio E della sete di uccidere Che permeavano Le rosse immagini Proiettate verso di lui Non come parole articolate Come gli erano pervenuti I pensieri dell'entità Ma come ondate Su ondate di violenta emozione Per un attimo Che parveva un'eternità Dovette lottare Contro l'aggressione mentale Di quell'odio Lottare con tutte le forze Per liberare la mente E scacciarne i pensieri Estranei I cui aveva dato accesso Con la sua passività Gli venne da vomitare A poco a poco La sua mente tornò limpida Così come A poco a poco La mente di chi si desta Da un incubo Allontana da sé L'ordenda bava Di cui era tessuto il sogno Respirava con difficoltà E si sentiva molto debole Ma riusciva a pensare Guardò la sfera Era rimasta immobile Durante il duello mentale Che per poco Non aveva vinto Ora si allontanò Di qualche metro Da un lato Fermandosi accanto Al più vicino Degli arbusti azzurri Tre tentacoli Scattarono Dalle loro scanalature E cominciarono A frugare tra i rami Bene Disse Carson E allora sarà la guerra Abbozzò con sforzo Un sorriso Se ho capito bene La pace non ti va a genio E poiché era molto giovane Non poteva resistere Alla tentazione di aggiungere Fino alla morte Ma la sua voce In quell'immenso silenzio Suonò anche al suo orecchio Molto ridicola E nello stesso istante Ricordò che il duello Era davvero fino alla morte Non solo la sua morte O quella della sfera rossa Che aveva di fronte Ma la morte Dell'intera razza Dell'uno o dell'altro duellante La fine della razza umana Se veniva sconfitto Pensare a una cosa simile Lo riempiva di paura E di umiltà Più che pensarlo Saperlo Dentro di sé Con una certezza Che era qualcosa di più Della fede Sapeva che l'entità Che aveva disposto Questo duello Non mentiva Non scherzava Il futuro dell'umanità Dipendeva da lui Carson Era un pensiero Così terribile Che non riusciva Quasi a formularlo E si sforzò Di scacciarlo dalla mente Meglio concentrarsi Sulla situazione immediata Doveva esserci Un sistema Per superare la barriera O per uccidere Attraverso la barriera Mentalmente Sperò che non fosse L'unico modo Perché la sfera Aveva evidentemente Delle capacità telepatiche Molto superiori A quelle primitive Ancora mal sviluppate Della razza umana Ma era poi davvero così Lui era riuscito A scacciare i pensieri Della sfera Dalla propria mente Ma la sfera Sarebbe riuscita A scacciare i suoi Se le sue capacità Di proiezione Erano più forti Di quelle di Carson Non poteva darsi Che il suo meccanismo Di ricezione Fosse più vulnerabile Fissò lo sguardo Sul nemico E si sforzò Di concentrare Su di esso Tutti i propri pensieri Muori Pensò Stai per morire Stai morendo Sei Sperimentò Parecchie varianti Tentò di trasmettere Immagini mentali Aveva la fronte Madi ed è di sudore E l'intensità Dello sforzo Lo faceva tremare Da capo a piedi Ma la sfera Continuava tranquillamente A ispezionare il cespuglio Assolutamente insensibile Come se Carson Stesse recitando La tavola pitagorica Non era quello Dunque Il sistema Il caldo E lo sforzo Prolungato Gli davano Una sensazione Di vertigine Sedette sulla sabbia Azzurra Per riposarsi E dedicare Tutta la sua attenzione Allo studio Della sfera Esaminandola In ogni particolare Avrebbe forse Potuto valutarne La forza E scoprirne Le debolezze Imparare cose Che gli sarebbero State preziose Se mai fossero venuti A un corpo a corpo L'avversario Era occupato A spezzare Dei ramoscelli Carson L'osservò attentamente Cercando di capire Quanto sforzo Gli costasse l'operazione In seguito Pensò Avrebbe cercato Un cespuglio simile Dalla sua parte Della barriera E spezzando i rami Dello stesso spessore Avrebbe potuto Stabilire un confronto Tra la forza Delle sue braccia E mani E quella dei tentacoli Del nemico I ramoscelli Stentavano a venire La sfera Doveva lottare Per strapparli Ogni tentacolo Si sbiforcava In cima In due dita Ciascuna Sormontata Da un'unghia O artiglio Gli artigli Non sembravano Particolamente lunghi O temibili Non più delle sue unghie Se le avesse lasciate crescere No In complesso L'avversario Non sembrava Invincibile Fisicamente A meno che Naturalmente L'arbusto Fosse fatto Di una materia Molto resistente Carson si guardò Intorno E poco lontano Scorse un arbusto Esattamente uguale Si avvicinò E strappò Un ramoscello Era fragile E si ruppe facilmente Certo Poteva darsi Che la sfera Avesse simulato A bella posta La propria debolezza Ma Carson Non lo credeva Ma d'altra parte Dove era Il punto debole Dell'avversario In che modo L'avrebbe colpito Se gli si presentava L'occasione Tornò a esaminarlo Attentamente La pelle Che ricopriva La sfera Sembrava molto coriacea Avrebbe avuto bisogno Di un'arma Il più possibile Tagliente Raccolse di nuovo Il sasso Era lungo Una ventina di centimetri Di forma oblunga E abbastanza Acuminato A una delle estremità Se si fosse Si scheggiava Come la selce Avrebbe potuto Farsene un coltello Non disprezzabile La sfera Continuava L'esplorazione Dei cespugli Ripresa a rotolare E si fermò Accanto a un arbusto Di un tipo diverso Una lucertolina Azzurra E con molte zampe Simile a quella Che Carson Aveva visto Dalla sua parte Della barriera Schizzò fuori Dal cespuglio Un tentacolo Della sfera Scattò in avanti L'afferrò La sollevò in alto Un altro tentacolo Uscì dalla sua scanalatura E cominciò a strappare Ad una ad una Le zampe della lucertola Con la stessa fredda calma Con cui aveva strappato I ramoscelli Dell'arbusto L'animale Si dibatteva freneticamente Emettendo uno squittio Acutissimo E fu il primo suono Dopo la voce di Carson A rompere il silenzio Carson rabbrividì Dissogliendo gli occhi Ma subito Si costrinse a guardare Tutto quel che poteva imparare Sul conto del suo avversario Gli sarebbe stato utile Perfino quella dimostrazione Di inutile crudeltà Soprattutto pensò Con un lampo improvviso d'odio Quella dimostrazione di crudeltà Sarebbe stato un vero piacere Uccidere la sfera Se e quando L'occasione si presentava Proprio per procurarsi Questo incentivo Si fece forza E continuò a guardare Ma sospirò di sollievo Quando la lucertola Con metà delle gambe strappate Smise di squittire E di battersi E giacqua immobile Nella stretta della sfera Morta La sfera non finì Di strappare le zampe Dell'animale Con indifferenza Lo gettò lontano In direzione di Carson Il corpo della lucertola Percorse un'ampia curva E venne a cadere A suoi piedi Era passato Attraverso la barriera La barriera Non c'era più Carson fu in piedi In un istante E con la mano chiusa Intorno al coltello Si precipitò in avanti Avrebbe chiuso La partita subito Adesso Ora che la barriera Non c'era più Ma la barriera Non era caduta Se ne accorse A sue spese Cozzando contro di essa Con la testa E l'urto Quasi gli fece perdere i sensi Rimbalzò indietro E stramazzò a terra Mentre si rizzava a sedere Sfuotendo il capo Per rimettersi Vide un oggetto Volare verso di lui E per scansarlo Si gettò a faccia A faccia A faccia a terra Sulla sabbia E fece uno scarto Lateralmente In tal modo Riuscì a portare Il tronco fuori tiro Ma un dolore acutissimo Gli traffisse Il polpaccio sinistro Sempre rotolando Sulla sabbia Indietro Gio ancora Poi si rimise Faticosamente in piedi Era stato un sasso Ora vedeva A colpirlo E la sfera Ne stava raccogliendo Un altro E tenendolo Con due tentacoli Si preparava A scagliarlo Il sasso Volò alto Verso di lui Ma Carson Lo schivò facilmente Evidentemente La sfera Era in grado Di tirare Con una certa precisione Ma senza forza E non molto lontano Il primo sasso L'aveva colpito Solo perché Lui era seduto E l'aveva visto Arrivare troppo tardi Mentre si tirava di lato Per scansare Quel secondo lancio Carson piegò Indietro il braccio destro E scagliò il sasso Che teneva ancora in mano Se i proiettili Pensò con gioia improvvisa Possono attraversare La barriera Saremo in due Ad approfittarne E il braccio Di un terrestre Non scherza Non poteva sbagliare Una sfera Di un metro Da una distanza Di quattro metri E non sbagliò Il sasso tagliò L'aria Sibilando A una velocità Molto superiore A quella dei proiettili Lanciati dalla sfera Colpì il bersaglio In pieno Ma sfortunatamente Di piatto Invece che Dalla parte Acuminata Tuttavia si sentì Un tonfo sordo E Carson capì Che la botta Doveva essere stata dura Quando la sfera Abbandonata precipitosamente La ricerca di un altro sasso Si allontano rotolando Prima che Carson Avesse avuto il tempo Di raccogliere E scagliere un altro sasso L'avversario era già Una trentina di metri Dalla barriera E continuava a fuggire Il secondo sasso Sbagliò alla mire Di pochi centimetri E il terzo era corto Ormai la sfera Era fuori tiro Perlomeno Fuori dal tiro Di proiettili Abbastanza pesanti Da nuocere Carson sorrise Il primo round L'aveva vinto lui Solo che Il sorriso Gli morì sulle labbra Quando si curvò A esaminare il polpaccio Scusate Il filo frastagliato Del sasso Aveva aperto nella carne Una ferita abbastanza profonda E lunga Una decina di centimetri Sanguinava copiosamente Ma non doveva essere Penetrato tanto Da tagliare un'arteria Se l'emordagia Si arrestava spontaneamente Non era niente di grave Altrimenti sarebbe stato Un problema serio Ma ora c'era una cosa Da scoprire Molto più urgente Della ferita La barriera Si incamminò di nuovo Verso il muro invisibile Questa volta Con le mani tese Dinanzi a sé Lo trovò subito Poi appoggiandovisi Con la sinistra Scogliò con la destra Una manciata di sabbia Contro la barriera La sabbia passò La sua mano no Materia organica Contro materia inorganica No Perché la lucertola morta Era passata E una lucertola Viva o morta Era certamente organica Vita vegetale Spezzò un ramoscello E lo spinse contro la barriera Il ramoscello passò Senza incontrare l'esistenza Ma le dita che lo stringevano Dovettero a restarsi Non poteva passare Come non poteva passare la sfera Ma i sassi e la sabbia E una lucertola morta E una lucertola viva Si mise a frugare tre cespugli Finché ne trovò una E la catturò La gettò delicatamente Contro la barriera E l'animale rimbalzò indietro E corse via tra la sabbia azzurra Per il momento almeno Poteva mettersi il cuore in pace Il muro era impenetrabile Alle creature vive La materia morta O inorganica Poteva attraversarlo Ora che aveva risolto Il problema Carson tornò a esaminare la gamba L'emordagia andava attenuandosi Il che voleva dire Che non c'era bisogno Di fabbricare un laccio Per arrestarla Ma doveva assolutamente Trovare dell'acqua Ammesso che ce ne fosse Per lavare la ferita Acqua Non appena ci pensò Si rese conto Di essere terribilmente assetato Doveva trovare dell'acqua Ad ogni costo Soprattutto perché questo duello Avrebbe potuto protrarsi Molto a lungo Zoppicando leggermente Si incamminò Per fare il giro completo Della sua metà Dell'arena Facendo scorrere una mano Alla barriera invisibile Si avviò verso destra Finché non raggiunse il punto In cui la cupola Scendeva a toccare la sabbia Era visibile E da vicino Il colore aveva una tonalità Grigio-azzurda Spenta Al tatto La superficie si presentava In tutto simile A quella della barriera centrale Fece l'esperimento Di gettare una manciata di sabbia Contro la parete ricurva E la sabbia scomparve al di là Anche la cupola emisferica Era un campo di forza Ma opaco Invece che trasparente Come la barriera La seguì all'ingiro La seguì all'ingiro Finché giunse All'altra estremità Della barriera E sempre sfiorandola con la mano Ritornò al punto Da cui era spartito Non c'era acqua Preoccupato Presa per correre a zigzag Avanti e indietro Il semicerchio Compreso tra la barriera E la cupola Battendolo metro per metro Non c'era acqua Sabbia azzurra C'è spugli azzurri E un calore intollerabile Nient'altro Doveva essere la sua immaginazione Pensò erosamente A dargli quell'atroce Senso di sete Da quanto tempo era qui Nemmeno un attimo Naturalmente Secondo il suo metro Spazio temporale L'entità gli aveva detto Che là fuori Il tempo si era fermato Mentre lui si trovava qui Ma qui il suo corpo Aveva continuato A vivere lo stesso E secondo i suoi processi Fisiologici Da quanto tempo era qui Tre o quattro ore al massimo Non certo abbastanza Da giustificare Quella sete orribile Eppure la sete c'era E lo faceva soffrire Terribilmente Aveva la gola secca Rialza Rialza Probabilmente era colpa Del caldo Faceva un caldo spaventoso Più di cinquanta gradi Almeno Un calore secco Plumbeo Senza il minimo Movimento d'aria Zoppicava di più ora E quando ebbe terminato L'inutile esplorazione Del suo regno Si lasciò cadere A terra esausta Guardò la sfera Immobile nel suo semicerchio E si augurò Che stesse altrettanto male Ed era molto probabile Che anche il suo nemico Non fosse troppo contento L'entità aveva detto Che le condizioni ambientali Erano ugualmente disagevoli E insolite per l'uno E per l'altro Forse la sfera Veniva da un pianeta Dove la temperatura normale Era di settanta gradi All'ombra Forse mentre lui Si sentiva svenire dal caldo L'altro tremava di freddo Forse l'aria Per l'altro Era troppo densa Come per lui Era troppo rarefatta La breve passeggiata esplorativa Lo aveva lasciato Infatti Senza fiato E solo ora Si rese conto Che qui l'atmosfera Era di poco più densa Che su Marte Niente acqua Questo almeno per lui Voleva dire la fine Se non trovava il modo Di superare la barriera O di uccidere l'avversario Pur restandone al di qua A lungo andare Sarebbe stato sconfitto Dalla sete Sarebbe morto di sete Il pensiero Destò in lui Un febbrile senso di urgenza Doveva darsi da fare E presto Ma si costrinse A restare ancora seduto A riposare A riflettere Che poteva fare Niente E tuttavia molte cose C'erano per esempio Le diverse varietà Di cespuglie Non promettevano granché Pure valeva Pure valeva Sempre la pena Di esaminarli E la sua gamba Doveva assolutamente Occuparsene Anche se mancava L'acqua per lavare la ferita E poi c'era da raccogliere Munizioni Cioè sassi E trovare un sasso Da cui si potesse Ricavare un buon coltello La gamba ora gli doleva Ed egli decise Di badare Innanzitutto a questo Un tipo di cespuglia Aveva delle foglie O delle screscenze Alquanto simili a foglie Ne strappò una manciata E dopo averle esaminate Decise di tentare Una medicazione Prima se ne servì Per daschiar via la sabbia E il sangue era preso Intorno alla ferita Poi ne raccolse Un'altra manciata Ne fece una sorta di tampone E lo legò sulla piaga Utilizzando dei tralci Strappati dalla stessa pianta I tralci Si rivelarono Inaspettatamente tenaci E robusti Erano sottilissimi Morbidi e pieghevoli E tuttavia Non riuscì a spezzarli Fu costretto a segarli Da cespuglio Con il filo tagliente Di una scheggia Di selce azzurra I più spessi Erano lunghi Quasi mezzo metro E Carson Prese mentalmente nota Del fatto che Intrecciandoli Strettamente Avrebbe potuto Fabbricarsi Un'ottima corda Forse più tardi Avrebbe scogitato Il modo di utilizzare Una corda Poi si fabbricò Un coltello La selce azzurra Come aveva previsto Si scheggiava Con facilità Da una scheggia Di una trentina di centimetri Ricava un'arma rozza Ma efficace E con i tralci Del cespuglio Si fece una sorta Di cintura In cui infilare il coltello Per averlo sempre con sé E al tempo stesso Restare con le mani libere Riprese ad esaminare Di cespugli Ce n'erano di altri tre tipi Uno privo di foglie Secco Fragile Il secondo Di legno tenero Che si sbriciolava facilmente Il terzo Era quello che ricordava Più di tutto il legno Aveva foglie delicatissime Che si afflosciavano Al minimo tocco Ma gli steli Ben che corti Erano diritti e robusti Faceva un caldo terribile Insopportabile Carson si avviò Zoppicando verso la barriera E allungò una mano Per accertarsi Che ci fosse sempre C'era Si fermò a osservare la sfera Il suo avversario Si teneva a prudente distanza Dalla barriera Fuori dal tiro Dei proiettili più grossi Si muoveva avanti e indietro Laggiù Quasi contro la cupola E pareva molto indaffarato Ma Carson Non riuscì a capire Che cosa stesse facendo Una volta si arrestò Si avvicinò di qualche metro E sembrò concentrare La propria attenzione Su Carson Ancora una volta L'uomo dovette lottare Contro quella ondata Di ribrezzo Scagliò un sasso E la sfera si ritirò E riprese gli andi rivini di prima Se non altro Pensò Carson Posso mantenere le distanze Ma subito rifletteva amaramente Che non gliene veniva Alcun vantaggio Pure Passò le due ore seguenti A raccogliere sassi Di misure adatte al lancio E a disporli In diversi mucchi Lungo tutto il suo lato Della barriera La gola gli bruciava Ora Gli riusciva difficile A pensare ad altro Che all'acqua Ma doveva pensare Ad altre cose Al modo di superare Quella barriera Passandole sotto O sopra E di raggiungere Quella sfera rossa E uccidere la prima Che questo supplizio Di caldo E di sete Uccidesse lui La barriera tagliava La cupola a metà Ma quant'era alta E quanto penetrava Sotto la sabbia Per qualche istante La mente di Carson Fu troppo annebbiata Per pensare al modo Di risolvere Questi due problemi Seduto pigramente Sulla sabbia infuocata E non ricordava Di essersi seduto Egli si trovò Con lo sguardo fisso Su una lucertola azzurra Che strisciava Dal rifugio di un cespuglio Al rifugio del cespuglio Più vicino Dal secondo cespuglio L'animale sporse la testa E lo guardò Carson gli sorrise Forse cominciava a vaneggiare Pensò E ricordò all'improvviso La vecchia storiella Dei pionieri accampati Nel deserto di Marte Derivata da una storiella Ancora più antica Sul deserto americano Dopo un po' Ti senti così solo Che cominci a parlare Alle lucertole E non passa molto Che ti accorgi Che le lucertole Ti rispondono Sapeva che avrebbe Dovuto concentrarsi Pensare al modo Di uccidere la sfera Ma invece sorrise Alla lucertola E disse Hello La lucertola fece Qualche passo verso di lui Hello Rispose Carson rimase Per un attimo sbalordito Poi rovesciò All'indietro La testa Scoppiando in una Fregorosa risata Si dimenticò perfino Che la gola Gli faceva male Perché no? Perché l'entità Che aveva concepito Quest'incubo Non avrebbe dovuto Avere il senso Dell'umorismo Insieme a tutti Gli altri poteri Di cui era dotata? Lucertole parlanti Addestrata a parlarmi Nella mia stessa lingua Se ho voglia Di fare conversazioni E ha un pensiero gentile Sorrise alla lucertola E disse Viene un po' qui Ma l'animale si volse E corse via Stricciando velocissimo Da un cespuglio all'altro Finché scomparve Aveva di nuovo sete E pure io Quindi faccio una pausa E bevo il mio goccio d'acqua Procediamo Aveva di nuovo sete E doveva decidersi ad agire Non poteva vincere il duello Restando qui seduto A sudare A soffrire Doveva fare qualcosa Ma che cosa? Attraversare la barriera Ma non si poteva attraversarla Né scavalcarla Ma era proprio sicuro Che non si potesse superare L'ostacolo dal di sotto E ora che ci pensava Scavando Si trovava l'acqua talvolta Due piccioni con una fava Con uno sforzo doloroso Carson arrancò fino alla barriera E cominciò a scavare Con le due mani a coppa Era un lavoro lento Durissimo Perché dagli orli La sabbia tornava a scivolare dentro E più scendeva in profondità Più doveva allargare Il diametro della buca Non seppe mai Quante ore passò in ginocchio Scavando Ininterrottamente Ma toccò il fondo A un metro e mezzo Di profondità Un fondo di pietra Compatto Asciutto Senza un filo d'acqua E il campo di forza Della barriera Scendeva dritto Impenetrabile Fino allo strato di pietra Niente da fare Niente acqua Niente Si trascinò fuori dalla buca Indietro E uno era munito All'estremità Di una specie di cucchiaio Ricordava un po' Una catapulta Pensò Carson E in quel momento Vide la sfera Raccogliere un grosso sasso E sistemarlo nel cucchiaio Con uno dei due tentacoli Mosse su e giù L'altra leva Parecchie volte Poi spostò leggermente La macchina Come per prendere la mira E la leva Che reggeva La pietra Scattò in alto E in avanti Il sasso volò Molti metri Sopra la testa di Carson Così lontano Che egli Non ebbe bisogno Di chinarsi Ma misurando La distanza Che il proiettile Aveva percorso Fischiò tra i denti Lui non sarebbe riuscito A lanciare un sasso Di quel peso Nemmeno a metà strada E anche ritirandosi Al limite più lontano Del suo semicerchio Non sarebbe uscito Dal raggio di tiro Della macchina Perché allora La sfera L'avrebbe sicuramente Piazzata vicino alla barriera Un altro sasso Passò similando Sopra di lui Non tanto lontano Questa volta Quell'ernese Poteva essere pericoloso Si convince Carson Meglio escogitare qualcosa Per eliminarlo Muovendo a zigzag Lungo la barriera Per non offrire al nemico Un bersaglio fisso Scagliò una dozzina Di sassi Contro la catapulta Ma capì subito Che non avrebbe concluso nulla In quel modo Se non erano sassi piccoli Non poteva lanciarli A quella distanza Se colpivano La struttura di legno Rimbalzavano via Senza danneggiarla E la sfera Non aveva nessuna difficoltà A scansare Quelli diretti Contro di lei Inoltre il braccio Gli faceva male Erando lenzito Dalla testa ai piedi E stanchissimo Se avesse potuto Riposarsi un poco Senza dover scansare I proiettili della catapulta A intervalli regolari Di trenta secondi Tornò barcollando Verso il fondo dell'arena Ma si avvide subito Che non c'era scampone pure là I tiri lo raggiungevano Agevolmente anche laggiù Solo che l'intervallo Tra l'uno e l'altro Era più lungo Come se occorresse Un tempo maggiore Per caricare Il meccanismo della catapulta Penosamente Si trascinò di nuovo Fino alla barriera Inciampò e cadde Parecchie volte E solo a stento Riuscì a rimettersi in piedi A proseguire Sapeva di essere ormai Al limite della sua resistenza Ma non osava fermarsi Finché non avesse trovato Il modo di mettere fuori uso Quella catapulta Se si fosse addormentato Non si sarebbe svegliato mai più Fu proprio uno dei proiettili nemici A dargli l'ispirazione Colpì in pieno Con forza Una delle pile di sassi Che Carson aveva accumulato Lungo la barriera Per servirsene come munizioni E dall'urto Scatolì una pioggia Di scintille Scintille Fuoco L'uomo della preistoria Otteneva il fuoco Con le scintille E utilizzando come esca Il legno secco e friabile Di quei cespugli A pochi metri da lui C'era appunto Un cespuglio di quel tipo Carson spezzò qualche ramo Lo depose sulla pila di sassi Poi pazientemente Si diede a picchiare Pietra su pietra Finché una scintilla Toccò il legno poroso Del cespuglio Le fiamme avvamparono Così in fretta Da annerirgli le sopracciglia E pochi secondi dopo Non restava più Che un mucchietto di cenere Ma Carson ormai Aveva il suo piano E in pochi minuti Preparò un fuocherello Al riparo della duna di sabbia Che aveva tratto dalla buca Un paio d'ore prima L'aveva acceso Coi cespugli di prima E teneva la fiamma Costante con un altro Tipo di ramoscelli Che bruciavano Ma più lentamente I tralci robusti E sottili Come fil di ferro Bruciavano anch'essi Molto ad agio In tal modo Era facile fabbricare E lanciare granate incendiarie Una piccola fascina In fiamme Con dentro un sasso Per appesantirla E una corda di biticci Per rotearla in alto E scagliarla lontano Ne preparò una dozzina Prima di dar fuoco alla prima E lanciarla Sbagliò il bersaglio Di parecchi metri E la sfera Tentò immediatamente Di allontanarsi Trascinandosi Appresso la catapulta Ma Carson Aveva gli altri proiettili pronti E li gettò uno dopo l'altro In rapida successione Il quarto Si infilò Nella struttura Della catapulta E il fuoco Fece il resto La sfera Cercò disperatamente Di spegnere le fiamme Con la sabbia Ma i tentacoli Artigliati Non potevano raccoglierne Più di un cucchiaio Dalla volta E tutti i suoi sforzi Furono vani La catapulta bruciò La sfera si portò A prudente distanza Dal fuoco E parve concentrare La propria attenzione Su Carson E di nuovo Egli sentì Quell'ondata di odio E di nausea Ma più fioca O la sfera Cominciava anch'essa A perdere le forze Oppure Carson Aveva imparato A proteggersi Dai suoi attacchi mentali Fece uno sberleffo All'avversario E poi lo costrinse A rotolare ancora più lontano Tirandogli un sasso La sfera si ritirò Al limite Del proprio semicerchio E ricominciò A strappare arbusti Probabilmente Per costruirsi Una seconda catapulta Carson si accertò Per la centesima volta Che la barriera Fosse sempre in attività Poi all'improvviso Si ritrovò seduto Sulla sabbia Era troppo debole Per restare in piedi La sua gamba Gli doleva Fitte intermittenti Ora E la sete Continuava a torturarlo Ma erano cose da poco Vicino all'estrema Spossatezza fisica Che paralizzava Tutto il suo corpo E alla sete L'inferno Deve essere così Pensò L'inferno In cui credevano Gli antichi Lottò per restare sveglio E tuttavia Restare sveglio Gli sembrava perfettamente Inutile Dato che non poteva Fare niente Niente Finché la barriera Restava impenetrabile E la sfera Laggiù fuori tiro Ma un mezzo Doveva pure esserci Cercò di ricordare Quel che raccontava Nei libri di archeologia Che aveva letto Sui metodi di lotta In uso nei tempi precedenti All'avvento del metallo E delle materie plastiche I proiettili di pietra Quella era stata La prima invenzione E poi E c'era già arrivato L'unico perfezionamento Del proiettile a mano Sarebbe stata Una catapulta Come quella Che aveva costruito La sfera Ma lui non sarebbe Mai riuscito A fabbricarsene Una o dei pezzetti Di legno Che poteva procurarsi Dagli arbusti Non c'era un solo Ramoscello Che superasse I 30 centimetri Di lunghezza Certo Poteva escogitare Un meccanismo Che ovviasse A questo inconveniente Ma non gli restava Sufficiente tenacia E forza Per intraprendere Un lavoro Che richiedeva Giorni e giorni Giorni? Ma la sfera Era pur riuscita A costruirsene una Erano già passati Dei giorni Dal loro arrivo qui Poi ricordò Che la sfera Aveva molti tentacoli E che evidentemente Era in grado Di lavorare Molto più in fretta Di lui E del resto Una catapulta Non avrebbe risolto nulla Doveva trovare di meglio Freccia e arco? No Aveva provato Il tiro con l'arco Una volta E sapeva di essere Un pessimo arciere Anche con la precisissima Arma d'acciaio Flessibile Fabbricata per lo sportivo Moderno Qui poi Corrozzo Arnese Che avrebbe a stento Potuto mettere insieme Ben difficilmente Sarebbe riuscito A lanciare una freccia Più lontano Di quanto poteva Lanciare un sasso Con la mano E non dubitava Che il tiro Sarebbe stato Ancor meno preciso La lancia allora Questo poteva farlo Come arma A lungo raggio Non gli sarebbe servita niente Ma poteva rivelarsi Preziosa In un duello Avvicinato Se mai fosse riuscito Ad avvicinarsi La sfera E intanto Poteva servire A tenerlo occupato A impedire Alla sua mente Di perdersi In vaneggiamento Di sfuggire Al suo controllo Già ora Doveva ogni tanto Fare uno sforzo Di concentrazione Per ricordare Dove fosse Per quale ragione E perché Dovesse uccidere La sfera Per fortuna Si trovava ancora Accanto a una Delle sue pile di sassi Scelse a lungo Nel mucchio Finché ne trova uno Che aveva all'incirca La forma di una punta Di lancia Con un sasso Più piccolo Comincia a scheggiarlo Per dargli la forma desiderata E dotarlo Sui lati Di sporgenze aguzze In modo che Una volta penetrato Nel corpo dell'avversario Non potesse più uscirne Come un arpione Era un'idea Pensò Un arpione Era meglio Di una lancia Forse In questo duello pazzesco Assicurando l'arma A una lunga fune Gli sarebbe stato facile Una volta colpita la sfera Trascinarla contro la barriera E finirla poi da vicino Se non con le sue mani Il campo di forza Avrebbe lasciato passare Il suo coltello Se non le sue mani Il campo di forza Avrebbe lasciato passare Il suo coltello Gli riuscì più difficile Preparare l'asta Che la lama Ma tagliando E unendo i rami Più grossi Di quattro arbusti E legando intorno Alle giunture Una treccia Di robusti viticci Riuscì a mettere insieme Un'asta di circa Un metro e mezzo In cima alla quale Assicurò strettamente La punta di pietra Era un'arma molto primitiva Ma robusta E la corda Con i sottili vitici Interciò 7-8 metri Di fune Era leggera E non sembrava Molto resistente Ma Carson sapeva Che avrebbe retto Il suo peso abbondantemente Ne legò un capo All'asta dell'arpione E l'altro Se lo assicurò Intorno al polso destro Per lo meno Scagliando l'arpione Oltre la barriera Avrebbe potuto recuperarlo Se sbagliava il bersaglio Poi Quando ebbe stretto Anche l'ultimo nodo E non gli restò Più nulla da fare Il caldo La stanchezza E il dolore La gamba E l'arsura tremenda Gli parvero All'improvviso Mille volte più Intolerabili Di quanto erano stati prima Cercò di alzarsi Per vedere Che cosa stesse Facendo la sfera E si accorse Che non riusciva A mettersi in piedi Al terzo tentativo Arrivò a malapena A inginocchiarsi E subito ricadde estremato Devo dormire Pensò Se dovessi sostenere Lo scontro finale adesso Sarei perduto Potrebbe avvicinarsi E uccidermi qui dove sono Se sapesse Devo recuperare le forze Lentamente Penosamente Si allontanò Strisciando dalla barriera Dieci metri Quindici Il tonfo di qualcosa Che cadeva sulla sabbia Vicinissima a lui Lo svegliò Da un sogno confuso E orribile A una realtà Ancora più confusa E orribile I suoi occhi Aprendosi Ritrovarono il riverbero Azzurro Sulla sabbia azzurra Quanto tempo aveva dormito Un minuto Un giorno Un altro sasso Cadde a poca distanza Da lui Schizzandogli addosso Un po' di sabbia Facendo leva Sulle due braccia Si sollevò Altrimenti E poi di nuovo Tutto gli scivolò Sollevò Sollevò la testa E la guardò Era terribilmente gonfia Sotto il ginocchio E il gonfiore Si era propagato Anche più in su Fino a mezza coscia I tralci che aveva usato Per legare sopra la ferita Il cuscinetto di foglie Erano penetrati profondamente Nella carne gonfia Impossibile infilare il coltello Di pietra sotto Quei lacci strettissimi Per fortuna L'ultimo nodo Era proprio sul collo Del piede Dove la siringa Era penetrata Meno profondamente Con sforzi dolorosissimi Riuscì finalmente A scioglierla Scusate Gli bastò un'occhiata Sotto il tampone di foglie Per capire che il peggio Si era verificato Infezione E avvelenamento del sangue In forma grave Che andava peggiorando E senza medicina E senza bende Perfino senza acqua Non poteva fare Assolutamente nulla Nulla salvò Morire Quando il veleno Si sarebbe diffuso In tutto Si diffuso In tutto il suo sangue Capì allora Che non aveva speranza Che aveva perduto E insieme con lui Tutto il genere umano Nel momento in cui lui Qui moriva Fuori Nell'universo Sarebbero morti Tutti i suoi amici Tutti gli uomini E la terra E i pianeti colonizzati Sarebbero passati Sotto il dominio dei rossi E mostruosi Invasori Creature uscite Da un incubo Esseri senza attributi umani Che squartavano Lo certo le vive Per divertimento Fu quest'ultimo pensiero Dagli il coraggio Di trascinarsi Ancora una volta Quasi accecato Dal dolore Verso la barriera Non ce la fece neppure A strisciare Sulle mani E sulle ginocchia Questa volta Ma dovette spingersi avanti Sulla forza di braccio C'era una probabilità Su un milione Che giuntola Gli sarebbero bastate Le forze Per scagliare il suo arpione Una sola volta E con effetto mortale Ad agio Anche l'avversario Quei pugni Chiuse di nuovo Gli occhi La voce riprese Era questo che voleva E si torceva Se potessi passare Il coltello Ma sapeva Che non l'avrebbe fatto Finché restava in vita C'era una probabilità Su un milione Aveva inarcato il dorso E con le palme Si reggeva contro la barriera E a un tratto Notò che le sue braccia Erano magrissime Ridotte a pelle e ossa Doveva essere stato qui Davvero per molto tempo Giorni e giorni Per ridursi in questo stato Quanto tempo ancora L'aurrebbe fatto attendere La morte Quanto tempo Poteva ancora resistere Il suo corpo al caldo Alla sete Al dolore Per qualche minuto Fu ripreso da una sorta Di rabbia esterica Ma poi sopravvenne Una gran calma E con la calma Venne un pensiero stupefacente La lucertola La lucertola monca Che aveva ucciso Era passata attraverso La barriera Ancora viva Era venuta Dalla parte della sfera La sfera le aveva Strappato le zampe Ad una ad una E poi l'aveva scagliata Con disprezzo Verso di lui E l'animale Era passato attraverso La barriera Perché aveva pensato Allora La lucertola era morta Ma non era morta Era in stato di incoscienza Un allucertola viva Non poteva passare la barriera Ma in stato di incoscienza Sì La barriera Non era una barriera Dunque Per i corpi vivi Ma per i corpi coscienti Era una protezione mentale Un ostacolo mentale E con questo pensiero Carson Si trascinò strisciando Lungo la barriera Per giocare la sua ultima carta Una speranza così remota Che solo un uomo morente Poteva prenderla in considerazione Inutile calcolare Le probabilità di successo Se non avesse tentato Infatti Le sue probabilità Erano uguali a zero Strisciò lungo la barriera Fino alla duna di sabbia Alta circa un metro e mezzo Che aveva accumulato tentando Ma quanti giorni fa Ormai Di scavare un passaggio Sotto la barriera Sperando di trovare dell'acqua Riavvio Instagram Per la fine E andiamo a leggere La conclusione insieme Secondo solo Ok Restate concentrati Ed eccoci insieme A scoprire il finale De il duello Di Brown Il tumulo Sorgeva proprio Contro la barriera E da un lato Scendeva per un breve tratto Al di là di questa Raccolto un sasso Dalla pila di munizioni Lì accanto Carson si arrampicò Sulla cima Della duna Scese nel piccolo avvallamento E si sdraiò Lungo la barriera Appoggiandomisi Con tutto il peso Del corpo In modo che Se il campo di forza Veniva meno Sarebbe rotolato Per la breve china In territorio nemico Si accertò Di aver sempre Il coltello Infilato nella cintura Che i nodi Che legavano L'arpione All'asta E al suo polso Non si fossero allentati E strinse a sé L'arma col braccio Sinistro Poi con la mano destra Alzò il sasso Col quale doveva Colpirsi in testa Solo la fortuna Poteva aiutarlo In quell'attimo Il colpo Avrebbe dovuto Essere forte abbastanza Per fargli perdere I sensi E non troppo forte Da fargli perdere A lungo Aveva la sensazione Che la sfera Lo stesse osservando E che vedendolo Rotolare al di là della barriera Sarebbe venuto a investigare L'avrebbe creduto morto Sperava Probabilmente Anche il suo avversario Ha raggiunto La stessa conclusione Riguardo alla natura Della barriera Ma si sarebbe avvicinato A lui con ogni cautela Tanto da dargli Il tempo di Abbasso al braccio Il dolore Gli fece riprendere i sensi Una fitta improvvisa Acutissima Al fianco Diversa dal dolore Solo dalla testa Dal dolore martellante Alla gamba Ma prima di svenire Carson aveva previsto Questo dolore Se l'era perfino Augurato E si era imposto Di non reagire Con un movimento improvviso Già acqua immobile Ma aprì gli occhi Di una fessura E vide che non aveva Sbagliato i suoi calcoli La sfera Si stava avvicinando Era una ventina Di metri da lui E il dolore Che l'aveva svegliato Era il sasso Scagliato dalla sfera Per vedere se lui Carson Era vivo o morto Non si mosse La sfera Si avvicinò ancora Giunse a tre metri Poi tornò a fermarsi Carson respirava appena Cercava di pensare Il meno possibile Per timore Che le capacità Telepatiche del nemico Avvertissero la presenza Di una coscienza viva E in quello stato Di passività mentale I pensieri dell'altro Lo investirono Con terribile violenza Fu preso da un senso Di raccapriccio Di fronte alla profonda Indicibile E straneità All'essenziale diversità Di quei pensieri Cose che poteva percepire Ma non comprendere E meno che mai esprimere Perché nessun linguaggio Terrestre aveva parole Nessuna mente terrestre Aveva immagini Capaci di tradurle La mente di un ragno Pensò O la mente di un amantide O di un serpente Dei deserti marziani Elevata all'intelligenza E messa in rapporto telepatico Con la mente umana Sarebbe sembrata In confronto a questa Una cosa buonaria E comprensibile Ora capiva che l'entità Aveva ragione O l'uomo O la sfera Nell'universo Non c'era posto Per entrambi Più distanti l'uno dall'altro Che Dio dal diavolo Non avrebbero mai potuto Trovare un accordo Un equilibrio Più vicino Carson attese Finché l'avversario Non fu a pochi centimetri Finché i suoi tentacoli Non frustrano l'aria Dimentico ora Ad ogni sofferenza Si alzò di scatto a sedere Levò alto l'arpione E lo scagliò Con tutta la forza Che gli era rimasta O almeno Gli parve D'aver dato ogni sua energia In quell'istante Si sentì come fulminato Da un'improvvisa Corrente di forza Che lo rianimò Da capo a piedi Facendogli dimenticare Completamente il dolore Mentre la sfera Con l'arpione Conficcato nel corpo Fuggiva rotolando Carson cercò Di alzarsi E di inseguirla Ma non vi riuscì Ricadde sulla sabbia Ma continuò a strisciare La sfera giunse All'estremità della corda E Carson fu trascinato In avanti per il polso La corsa continuò Per qualche metro Poi ebbe fine Aiutandosi con la corda Carson si avvicinava Una mano dopo l'altra Al nemico La sfera era ferma ora E cercava disperatamente Di liberarsi dall'arpione Quei tentacoli Sembrava scossa da brividi E a un tratto Dovette rendersi conto Che non poteva estrare L'arma della ferita Perché si mosse Incontro a Carson Con tutti gli artigli sfoderati Impugnando il coltello di pietra Carson l'affrontò La colpì più e più volte Alla cieca Mentre i tentacoli Unghiati Gli strappavano Lembi di pelle E di carne Continuò a colpire Con tutte le forze E infine la sfera Giacqua e immobile Un campanello Suonava vicino al suo orecchio E quando aprì gli occhi Passarono alcuni minuti Prima che si rendesse conto Del luogo in cui si trovava Era sdraiato Tenuto fermo Dalle cinghe di sicurezza Al posto di guida Del suo razzo vedetta E il video davanti a lui Mostrava uno spazio Completamente vuoto Non c'era alcuna nave Degli invasori Non c'era alcun pianeta impossibile Il campanello Era il segnale Dello schermo di comunicazione Qualcuno voleva Che desse corrente Al ricevitore Obbedendo ai riflessi Carson riuscì Ad allungare la mano E ad azionare la leva Il volto di Brander Capitano della mano Magellano La nave base Del gruppo di vedette Apparve sullo schermo luminoso Era pallido E i suoi occhi neri Lucicavano dall'emozione Magellano a Carson Disse Rientra La battaglia è finita Abbiamo vinto Lo schermo tornò a vuoto Brander doveva Evidentemente Comunicare l'ordine Alle altre vedette Del gruppo Lentamente Carson Azionò i comandi Per rientrare Incredulo Sganciò lentamente Le cinghie di sicurezza E si diresse in fondo Prima non c'era Aprì da un sol colpo La chiusura della camicia E vide che il petto E l'addome Erano segnati Da numerosissime Piccole cicatrici Perfettamente rimarginate Era successo davvero La vedetta Guidata dal pilota automatico Era già sotto il ventre Della nave base Gli argani scesero a raccoglierla La trassero a bordo E un attimo dopo Una suoneria avvertì Che il compartimento Era stato riempito d'aria Carson aprì il portello Uscì dalla vedetta Aprì la doppia porta A chi chiudeva il compartimento Andò subito Nell'ufficio di Brander Entrò E si mise sull'attenti Brander aveva ancora Quell'aria sbalordita Salve Carson Disse Hai perso Un grande spettacolo Cos'è successo Signore? Non lo so Di preciso Abbiamo sparato una salva Una sola E tutta la loro flotta Si è polverizzata È stata come una fiammata Si propagava Da una nave all'altra Con la velocità del lampo Anche a quelle Su cui non avevamo sparato Anche a quelle fuori tiro Tutta la flotta Si è disintegrata Davanti ai nostri occhi E noi non abbiamo avuto Neppure un graffio Sulla vernice Alla vernice Non si può dire Che il merito sia nostro Deve essere stato Qualche componente instabile Nel metallo Delle loro stronavi E il nostro tiro Di avvistamento È bastato a scatenare La reazione Una cosa fantastica Peccato che hai perso Lo spettacolo Carson si sforzò Di sorridere Era solo l'ombra Di un sorriso Perché sarebbero passati Molti giorni Prima che riuscisse A superare il trauma Della sua avventura Ma il capitano Non lo guardava E non se ne accorse Sì signore Disse Carson Il buonsenso Più che la modestia Gli fece capire Che sarebbe passato Alla storia Come il più formidabile Bugiardo di tutto L'universo Se avessi detto Una parola di più Sì signore Peccato che ho perso Lo spettacolo Fine Questo era il duello Di Frederick Brown Lascio a voi la parola Fatemi sapere Cosa avete pensato De il duello Intanto leggo Un commento Di Claudia Che diceva Appunto ancora Del racconto di prima Bellissimo Hai ragione Pare di vedere un film Mi sa che stava scrivendo Del racconto Che stava ascoltando In questo momento Immagino E dice Bellissimo Hai ragione Pare di vedere un film Descrizione efficace Di paesaggi Situazioni Emozioni Molto filosofico Se è inteso Al racconto Che stavo leggendo Sono molto felice Che tu abbia colto Queste cose Perché Mi sembrava strano Che avessi Amato così tanto Un racconto Di fantascienza Ma Mi aveva Dato veramente tanto Alla prima lettura E alla seconda Non mi ha tolto niente Devo dire Ovviamente la prima È stata ancora più magica Per me Perché mi sono immaginato Questo Questa 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 Come dice Semisfera Con tutta azzurra Con questa sabbia azzurra Ma appustionante Valeria Bello E complimenti Per la lettura Faticosa E incalzante Grazie mille Spero vi sia piaciuto E spero abbiate colto Alcune delle frasi Che spiegano Il perché Io credo Che questa scrittura Sia fantastica Devo dire Che sono un po' Provo Provo una grande ammirazione Al di là del genere Che non ha Non ha Non seguo molto La fantascienza Provo una grande ammirazione Verso gli scrittori Di fantascienza Perché Spesso utilizzano Un linguaggio Che Ovviamente Non è facile Parlando di cose Che non sono nella nostra realtà O comunque Parlando anche molto Matematicamente Fisicamente a volte E i più grandi Riescono veramente A essere magici Nell'usare certi termini Senza confonderti E farti vedere certe cose Io Adesso vediamo se vi trovo un esempio Per farvi capire La Parte la fantascienza Proprio la sua scrittura Io ho trovato Che fosse veramente Pregna Di sostanza Questa scrittura Mi Mi faceva emozionare E mi facevano emozionare Frasi di questo tipo Adesso vi leggo Per esempio Non è bellissimo Descrivere un sogno Con queste parole A poco a poco La sua mente Tornò limpida Così come a poco a poco La mente di chi Si destra da un incubo Allontana da sé L'orrenda bava Di cui era tessuto Il sogno Questa orrenda bava Di cui è tessuto Un sogno Che viene allontanata Per riportarti la luce Io È una descrizione A mio parere Perfetta Per descrivere La sensazione Di Semi realtà Che si prova Ogni tanto Durante i sogni E la ripresa Alla coscienza Quando ci si sveglia Questa La bava Di cui era tessuto Il sogno Mi piace tantissimo Orrenda bava Di cui era tessuto Il sogno Questo è un esempio Solo un esempio Per dirvi Vediamo se ne trovo un altro Quando descrive Le cose Le descrizioni Mi sono piaciute molto Mi piacciono molto Di questo scrittore In particolare Tanto Aspetto i vostri commenti Cerco di trovare Qualche altra frase Per spiegarvi Il mio amore Per questo racconto Per questo scrittore Anche Questa cosa Che trasmette La sfera Lui la spiega Secondo me Sempre a mio parere In maniera magistrale Usando oltretutto Parole spesso Non particolarmente Rare E questo è il bello Le scritture più potenti Sono quelle Che riescono a utilizzare Le parole Più comuni Nella maniera Più appropriata E che sembra originale In quel caso La sfera aveva proiettato Qualcosa di non fisico Un'onda d'odio Quasi tangibile E io la provo Questa onda d'odio Quasi tangibile E anche le altre volte Che spiega Questi poteri mentali E quando descrive Il luogo Ecco Quando descrive Il luogo È lì che inizia tutto E mi ha trasportato Subito in quel posto Quando descrive Lui che capisce Che il suo corpo è bianco E non è azzurro Ma è proprio la sabbia E questa copertura Questi materiali Che lo coprono A essere azzurri È secondo me Meraviglioso Io vedevo Io vedevo la sabbia Che mi scorreva sulla gamba Raccolse una mancetta di sabbia E se la fece scorrere Tra le dita Tra le dita Sulla gamba Fu allora Che si accorse Che la gamba Era nuda Era completamente nudo Il suo corpo Era madido di sudore In quella calura soffocante Coperto di larghe chiazze azzurre Dove era venuto A contatto con la sabbia Ma altrimenti La sua pelle era bianca Oltre alla creatività Secondo me Meravigliosa Io trovo Che abbia una creatività Un'originalità Di creare questo Questo mondo stupendo E mi sono immaginato In questo Tempo non tempo Questo Spazio non spazio Questo luogo Che non si può comprendere E che lui stesso Non può comprendere Questa sfida All'interno di questo Semicerchio Questo cerchio E semisfera Di 200 metri Di grandezza Piccolissimo Con questa sabbia azzura Con questi cespugli azzuri Con queste lucertole Mi ha preso tantissimo Questa ambientazione Non riesco a spiegare bene perché Allora Leggiamo i commenti Valeria dice Ci sono molte cose Su cui riflettere Ha vinto l'intelligenza Il rispetto per la vita La tensione per gli altri La tensione per gli altri Da salvare E alla fine Anche la modestia Nel tacere Sul suo duello Sì È molto positivo Per una volta Cosa che non capita spesso E nonostante la sua positività Nonostante A certe volte È bello anche Sono d'accordo È vero Claudia dice La barriera potrebbe essere Quella tra sogni e realtà E tra coscienza inconscia In uno stato di coma Esattamente Esattamente E Valeria continua Dice Avevo colto anch'io Proprio quei due periodi Che hai riletto Vero eh Quella Quella orrenda bava Di cui sono tessuti i sogni Trovo che sia È una frase Che mi rimarrà in mente E queste sono le scritture che amo Quando una frase Ti colpisce Ti accoltella Dice Minchia ma Cioè Si può spiegare così bene Una cosa Con delle parole così banali Non banali Così normali Bava Orrendo Sogno Tessuto Cioè È come vengono utilizzate Non c'è niente da fare Secondo me È scritto magistralmente Ma non solo È di un'originalità Unica Questo racconto Lo provi La sete L'arsura Il dolore Non so come dirvi È una scrittura Veramente incalzante Veramente Incalzante Ripeto Mista A un'originalità E a una creatività Pazzesca Perché poi spesso Ci sono tante Volte in cui si leggono Scritture magistrali Che poi È tutto Un esercizio di stile E basta Mentre Quando la scrittura È magistrale In più c'è sostanza Io Ripeto Questo è un genere Che di solito Non mi colpisce Adesso Adesso Siete d'accordo Siete riusciti Siete entrati anche voi Dentro a quella Semisfera Ustunante Nonostante Fosse azzurra Completamente È un luogo Che mi ha Ammaliato Mi ha Ammaliato Valeria dice Noi ci siamo Naturalmente Identificati Nell'uomo Ma chissà I pensieri Della sfera Certamente Certamente E in questo caso Visto Giustamente Dalla parte dell'uomo Quello che percepisce È un odio profondo È una È un risentimento profondo Non c'è nessuna Coglie subito Che capisce subito Che non c'è nessuna Speranza Di pace O di Di vicinanza Di avvicinamento Di avvicinamento Da parte delle due specie Intanto sto continuando A cercare frasi Che mi colpiscono Questo racconto È veramente Uno dei miei racconti Preferiti È diventato Anche Tutte le riflessioni Sul fatto Magari Io sto morendo di caldo Magari lui sta morendo di freddo Le differenze Tra la forza mentale La forza fisica Di queste specie È spiegato troppo bene Io sono innamorato Di questo racconto So che lo state capendo Dalla mia Dalla mia parlantina Il pensiero Destò in lui È un febbrile Senso di urgenza Sono parole semplici Eppure efficaci Secondo me La traduzione È molto molto bella Devo dire La traduzione È molto molto bella Intanto Scrivetemi pure Allora La vecchia storia Di pompieri Accampati nel deserto Del Maine Dopo un po' Ti senti così solo Che cominci a parlare Con le lucertole E non passa molto Che ti accorgi Che le lucertole Ti rispondono Valeria L'ambientazione blu Mi ha ispirato Vero? Mi ha ispirato tantissimo E mi piace questa contraddizione Tra il calore ostionante Di questo mondo Questo mondo Di questo Spazio non spazio Tempo non tempo E l'azzurro Invece che È un colore freddo È un colore Fresco Freddo Di mare Di cielo Di aria Di acqua Fenomenale Non so se Siete d'accordo Spero che qualcuno Di voi Sia rimasto colpito Non vedo Il parere Il commento di Alixa Che era con noi Alixa fammi sapere Perché sarei curioso Di sapere anche Il tuo di parere Visto che Eri contento Appunto di ascoltare Questo racconto Se non riesci Spero Mi lascerai un commento Comunque indifferita Mi raccomando Ripet Il link Che viene Comparirà prima Nel video Poi andate A rivedere Vi porterà Agli altri due racconti Tratti da questa raccolta Che sono bellissimi Due o tre Due o tre Mi sembra aver letto Ma questi due Ragazzi Il primo divertentissimo Questo E questo Cioè Freddy Brown Ha scritto questo Quello di prima E la sentinella Cioè sono Io tre ne ho letti E tre Li ho Non apprezzati Li ho amati Amati E non è Comune È raro Leggo tantissime cose Devo dire Ultimamente Sto leggendo Per la maggior parte Il 90% dei casi Cose che mi piacciono E poi Da lì parte La sfumatura L'arcobaleno Sfumatura Di apprezzamento Però Robbe che veramente Finisco Per amare Come per esempio La settimana bianca Di Carrère Che riconsiglio a tutti Perché è un libro Fenomenale Questi qua Io li ho amati E Freddy Brown E ufficialmente Lo amo E devo dire Da come dicono E ne ho la conferma I suoi racconti In particolare Sono Sono riusciti Ma non riusciti Sono geniali Potete Concedetemelo Sono geniali Va bene ragazzi Se Calixa Non c'è più con noi Se non riuscite A sentire il commento Magari Mi risponderà dopo Magari ci lascia Un commento dopo Io vi do appuntamento Intanto A domenica Dopo cena Dopo cena Alle nove e mezza Se ci sono Cambiamenti Vi avviserò prima Ovviamente Perché Adesso Finalmente Dopo tre mesi Quattro mesi Di lockdown Palle varie Io Ho un attimo Scusate se Cado fuori dalla cultura Per un momento Ma Finalmente Stare iniziando La formula 1 Che è un po' L'altro mio Un'altra mia Grandissima passione E Domenica sarà di pomeriggio Ma Non posso perdermi Neanche una gara Comunque Domenica Sera non ci dovrebbero essere problemi Nei prossimi giorni Metto gli annunci Su Su youtube Su instagram Andate a vedere Prometto che Nei prossimi giorni Comincerò a chiedervi Un po' Di pareri E di opinioni E di proposte Su Libri Che abbiamo letto E da cui volete Che io legga altri Nuovi racconti Autori e libri Che avete apprezzato molto Torniamo Ricominciamo il giro Anzi Perdonatemi Ed ho detto Ho detto una cavolata Ho detto una cavolata Ho un ultimo raccolto di racconti Da leggervi Domenica Di James Laslum Un altro autore Che adoro Quindi domenica Leggeremo quello Vedrete nelle storie I prossimi giorni E poi comincerò a chiedervi I vostri pareri Per ritornare A girare Tutte le mie raccolte Va bene? Grazie a voi Grazie Claudia Grazie Valeria Grazie agli altri Grazie su Twitch Vedo qualcuno Salutami Melody E un bacio enorme Buonanotte ragazzi Sia domenica Alle nove e mezza Mettete